Grazie a tutti. Lascio la parola per un saluto prima di cedere la parola al collega Paolo Mantovan per iniziare il confronto. Allora, niente, a me è soltanto il compito di fare gli onori di casa e quindi darvi il benvenuto e di augurarvi una serata interessante, penso densa di contenuti perché credo che i candidati sindaci avranno appunto molte cose da raccontarci questa sera e quindi augurare a voi una buona serata e augurare a tutti e quattro ovviamente un in bocca al lupo per la campagna elettorale e ovviamente la promessa di rivederci con tutti ovviamente dopo la conclusione di questa campagna elettorale. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro a tutti quanti e buona serata a voi in sala. Buonasera, grazie allora di essere qui e mi immagino come le vostre aspettative, come le mie, vedo che tutti stanno prendendo carta e penna, fogli, io spero che non legano tutto quello che hanno portato qua perché sarebbe un po' difficile ovviamente da sostenere e li ringrazio per essere qui però io comincerei con tutti e quattro con una cosa molto semplice chiederei a ciascuno partendo da Franca Bazzanella perché semplicemente perché in modo molto breve si deve spiegarlo appunto non neppure una platea ma una persona che glielo chiede perché si è candidata a sindaco qual è il motivo per il quale ritiene di doversi candidare a sindaco? Ma ho fatto un sorriso quando prima si è detto partiamo da Franca Bazzanella perché questo mio cognome mi fa sempre intervenire per prima non mi dispiace devo dire però insomma è da quando sono elementari che quasi sempre mi tocca la prima parola io volentieri non le hanno messo la z al posto giusto, vero? esatto ma io volentieri anzi mi piace questa domanda prima però chiedo solo un mezzo minuto per esprimere una cosa che a me sta molto a cuore e l'ho fatto anche in conferenza stampa e lo vorrei fare anche qui all'inizio e anche magari alla fine e vorrei chiedere agli altri candidati sindaci di fare altrettanto cioè un appello soprattutto al voto perché è una delle cose che a me personalmente sanno molto a cuore la partecipazione in tutte le sue forme e il voto è un'altra forma di partecipazione il voto secondo me è un diritto ma è anche un dovere di tutti noi nel rispetto della democrazia e quindi in sala so che sono quasi tutti candidati ma quello che mi sento di dire a tutti noi cerchiamo di fare in modo di portare il più possibile le persone al voto e da qui visto che il voto è una forma di partecipazione passa anche il mio secondo pensiero cioè sul perché mi sono candidata ma il perché è anche semplice e al tempo stesso complesso io ho avuto richieste tra virgolette da parecchie persone e però prima di decidere di candidare sindaco a sindaca ho chiesto di cercare di costruire un percorso insieme di capire quale poteva essere il progetto politico per il quale eventualmente mi sarei candidata è stato un percorso molto lungo, molto interessante, molto di confronto da dove è nato poi tutto il programma che abbiamo scritto e che stiamo distribuendo ai cittadini e in ultimo è stata decisa la mia candidatura quindi noi siamo partiti prima dal programma, dalle liste e in ultimo tutte le persone che hanno costruito che hanno lavorato in questo percorso hanno scelto il mio nome come candidata a sindaco ma se io arrivo da lei e le domando ma perché si è candidata a sindaco lei cosa mi dice? ha solo tre secondi perché poi devo prendere la macchina credo che sia importante come dire, quando dei cittadini ti chiedono di metterti a disposizione per la comunità credo sia importante dire di sì e io l'ho fatto con questo senso di responsabilità senso di responsabilità e di comunità grazie, allora questa prima risposta è di Franca Bazzanella e passo la stessa domanda a Flavio Prada che è candidato a suo sostegno il Movimento 5 Stelle ricordo che Franca Bazzanella invece ha sostegno l'altra riva e laboratorio civico come liste buonasera buonasera a tutti no rispondevo già alla domanda la decisione di candidarmi in realtà non è una decisione personale non è partita soltanto da me non è una mia idea noi non siamo un partito noi siamo un movimento che ha dei processi democratici veri noi lavoriamo al nostro interno con la democrazia vera tutto è votato, tutto è deciso dal gruppo tutto è discusso fino a che il gruppo abbia un'idea chiara di come agire e come portare avanti tutto per cui la mia candidatura è nata di un processo di un processo interno democratico mi sono messo a disposizione con lo spirito di servizio e questo ovviamente io come tradizionalmente dentro il Movimento 5 Stelle non mi presento come un politico non mi presento come un semplice candidato sono un portavoce di un gruppo di un gruppo che lavora con questa caratteristica con questa democrazia interna che vogliamo esportare all'esterno del gruppo e portare in comune la partecipazione della democrazia diretta funziona molto bene dentro il nostro gruppo e vogliamo ampliare questa esperienza quindi questo bisogno di cambiamento per quel che riguarda soprattutto la democrazia diretta questa è la prima cosa che direbbe che dice a chi le chiede perché si candida al sindaco è la base fondante della nostra azione politica per cui non sono stato io Flavio Prada che ho deciso di formare una lista o cercare qualcuno ma la mia domanda a tutti rivolte non è per dire le tue ambizioni da sindaco è per dire se vi chiedono perché vi candidate al sindaco cos'è la prima cosa perché faccio parte di un gruppo che democraticamente mi ha scelto è stato scelto una scelta va bene non dall'alto ma dal basso proprio come deve essere Santorum allora perché candidato al sindaco mi risparmi il fatto che l'hanno scelto invece lei nel senso che non ci ha dovuto però perché si deve spiegare a qualcuno perché lei si sente candidato al sindaco e perché a chi deve spiegare insomma perché votarla cosa dice ma potrei rispondere in breve potrei dire rabbia e avrei già finito la risposta e io le dico rabbia perché rabbia perché rabbia perché quando si vive in Italia e si è avuto esperienze anche all'estero di lavoro di come funzionano diciamo le comunità anche all'estero poi si torna qua si investono in attività in propri soldi i propri risparmi anche per i propri figli per un domani e si vede come funziona poi l'Italia la prima reazione è rabbia la rabbia purtroppo ci sono varie forme di rabbia uno può incanalarla in un certo senso quindi protesta quelli che vanno a fare in giro fare i danni quelli che scrivono sui muri ognuno ha la sua forma di incanalare la propria rabbia io ho scelto di incanalare la mia rabbia democraticamente cosa vuol dire di mettermi in gioco di mettermi in gioco mettere la mia faccia questo è successo ancora due o tre anni fa all'inizio diciamo come appartenendo a un gruppo partecipando alla vita sia della situazione di categoria sia di alcuni movimenti e poi chiaramente quando quando si fa un certo percorso c'è sempre qualcuno che ti dice ma perché non ti metti la faccia e siccome mi sono rotto le scatole di questa storia qua ci ho messo la faccia bene allora siamo entrati proprio in quello che è l'investimento personale per ovviamente una questione comune e comunitaria ad Alberto Mosaner allora ricordo di nuovo Stefano Santorum è candidato per è sostenuto da oltre Rinnovamento Popolare Rivanità Forza Italia Lega Nord ad Alberto Mosaner invece è sostenuto da PD PAT UPT Riva Bene Comune allora ad Alberto Mosaner perché candidato sindaco certo per una continuità immagino e quindi push push e quindi e quindi e quindi e a un certo momento hanno detto le forze politiche che sostengono la maggioranza hanno detto questo è il percorso che abbiamo fatto la scusate la coalizione c'è buonasera perché se no vengo ripreso buonasera anche a voi è una coalizione che ha governato il comune da varie forme negli ultimi negli ultimi anni e quindi la domanda è stata prima di fare altre cose chiediamo che il sindaco uscente se è intenzionato a riproporsi la risposta è stata sì non so se in quel momento esattamente la volevano così però è stata sì e quindi subito dopo è passata al vaglio degli organismi dei vari partiti e di questo ne sono assolutamente felice nel senso che un'attività di un'amministrazione su una durata quinquennale rischia di essere anche corta per tutte le cose che magari ha detto anche Santorum perché l'amministrare non è semplice l'amministrare è una cosa anche complicata ma anche perché penso che ho ricevuto molto dall'amministrare e ritengo di aver collaborato assieme alla maggioranza ma a tutti quelli che ci sono stati a dare anche un qualcosa e tracciare un percorso per il futuro quindi altri cinque anni per tracciare un ulteriore percorso per il futuro bene allora altri cinque anni per il futuro in base a quello che è stato tracciato questa l'intenzione di Mosaner adesso chiederei poi entriamo nelle questioni una alla volta però chiederei invece la priorità se c'è una priorità qual è ovvio che ci sono tante cose però se c'è una cosa innanzitutto su cui concentrarsi qual è per voi questa volta comincio con Flavio Prada se c'è una priorità qual è per Flavio Prada avevo già accennato con la prima risposta la priorità oggi è che i cittadini siano consapevoli delle azioni dell'amministrazione pubblica non possiamo aprire la finestra e trovare davanti un centro commerciale la maggior parte dei cittadini di Riva non sapevano dell'esistenza di questo progetto i cittadini non sanno dell'esistenza di tanti progetti che sono portati avanti i cittadini devono essere consapevoli di cosa l'amministrazione pubblica sta facendo con loro soldi i soldi dei cittadini devono essere rispettati e la volontà dei cittadini in primo luogo deve essere rispettata abbiamo un'amministrazione che è lontana dai cittadini comuni che sta amministrando i nostri soldi in maniera confusa con interessi privati c'è una confusione fra interessi privati e interessi pubblici che dobbiamo risolvere con la democrazia diretta con cittadini consapevoli che sanno esattamente cosa l'amministrazione fa con i nostri soldi questa è la priorità allora Prada ha le idee direi chiare immagino anche Santorum qual è la priorità per lei per Riva sicuramente la parte urbanistica penso che non l'ho scoperta io nel senso basta aprire i giornali tutti i giorni ci accorgiamo che non è la mia priorità ma è la priorità di tutti i cittadini di tutta Riva mi sembra anche di tutti i giornalisti perché insomma se guardiamo i giornali da questo punto di vista ne abbiamo tanti esempi quindi una cosa che secondo me si dovrebbe fare anche perché diciamo che tutto quello che è successo adesso è nato molto indietro nel 77 quando Scaglia aveva fatto il primo studio economico da lì si era capito più o meno come procede nel piano regolatore si è proseguito si è andato avanti siamo arrivati a occupare tutto il terreno o quasi tutto ci sono ancora due zone che sono ancora da un punto di vista urbanistico possibilmente edificabili c'è un problema nel frattempo sono passati anche 35 38 anni diciamo da quel punto di vista quindi anche lì forse bisognerebbe un attimino rallentare fermarsi un attimo fare un tavolo aperto a tutti a tutti gli attori che ci sono sul territorio e cominciare a capire che cosa negli ultimi 10 anni non ha funzionato io ho delle idee ben precise non è solamente una questione di dire come urbanisticamente costruiamo sì costruiamo no come l'ho già ripetuto l'altra sera anche al sindaco Mosaner io condivido quello che ha fatto nel senso di ha modificato il regolamento interno in modo che si possa costruire si possono alzare di un piano le case anche in centro storico perché chiaramente è un modo per salvaguardare quello che c'è all'esterno poi della città quindi da quel punto di vista c'è poi un altro discorso che va un po' oltre questo che è il regolamento di quello che regola diciamo tutta l'edilizia diciamo nel campo in comune e proprio sono i regolamenti cioè se uno fa una casa e vuole aprire una finestra una finestrella verde o piuttosto che rosa trova un sacco di difficoltà per poter farla piuttosto verde piuttosto che fatta in un certo tipo piuttosto che farla in legno piuttosto che farla in alluminio no? se poi arriva il costruttore i soliti due tre costruttori che hanno alle spalle un ufficio tecnico loro personale degli avvocati che possono interpretare le norme che queste norme sono talmente complicate diventate che un semplice cittadino sarà sempre in difficoltà nei confronti del comune mentre un costruttore avrà alle spalle una struttura che gli permette di trovare sempre quelle vie che poi permettono di costruire il triplo di volumi come è successo nei centri commerciali per legge e dal resto e questo secondo me è incomprensibile e inconcepibile su questo bisogna aprire un ragionamento quindi una sistemazione urbanistica innanzitutto la questione per lei le priorità dopo andremo sulle varie scelte eventualmente però certamente quella urbanistica è quella che ci permette va legata a tutto il discorso che avete messo voi sul giornale i cinque punti sono questi quei cinque punti sono tutti legati dal primo all'ultimo alla questione urbanistica Miralago Adia Cattoi e tutto quel discorso quindi se non prendiamo in mano un discorso urbanistico per lasciare ai nostri figli un domani un minimo di ambiente di verde noi viviamo di turismo il nostro oro il nostro oro che vediamo è la tonale sono gli alberi sono le mele sono l'uva sono quelle cose di se noi non riusciamo a dare a un turismo un senso come dire non di realtà virtuale ma di vera realtà cioè di farlo vivere io mi sorprendo sempre quando vanno al mercatino di Arco arrivano da Milano i bambini vedono le galline con le pecorelle e si sorprendono che sono vive e succede a livello globale è questo noi siamo il grado a Trentino siamo New York il globale Mosaner la priorità per Riva in questo momento detta da candidato sindaco più che da sindaco da candidato sindaco bisogna bisogna dividere i ruoli in questo caso separarli assolutamente evidentemente quello dell'attenzione ha particolarità il territorio ha molte sfaccettature che vanno valutate e sono nell'ordine dell'ordine del giorno e quindi ci sono tante l'ho detto apposta da candidato sindaco perché da sindaco si sente interpellato da tutte le cose che vengono poste in campo invece io chiedevo la priorità qual è per Mosaner siccome è questo l'ho detto anche la volta scorsa una delle priorità fondamentali è quella dell'essere vicino ai cittadini ma quando si dice non si è vicino ai cittadini ahimè ne incontro troppi ne incontro tanti e anche da noi ci sono tanti cittadini che sono in difficoltà e quindi io dico che un sindaco deve avere una grande attenzione alla coesione sociale alla coesione di tutti e qui ci sono tanti si aprono scenari che sono importanti imponenti perché l'amministrazione non è l'amministrazione di una cosa è una grande casa all'interno della quale ci sono tantissimi problemi tantissime sfaccettature tantissime istanze in modo particolare anche da noi e sempre di più anche da noi delle esigenze dei cittadini che magari non arrivano alla fine alla fine del mese e quindi un'attenzione particolare a far sì che una città che tante volte ha delle sue fughe dove la coesione tante volte non c'è o non può esserci o non si raccoglie evidentemente fare il possibile perché questa comunità sia il più coesa possibile e che quindi tutti contribuiscano verso un fine ultimo che è quello del bene e del benessere dei cittadini qualsiasi essi siano e quindi una particolare attenzione al mondo variegato della cittadinanza questo è un tema che è fondamentale perché sempre di più negli ultimi anni anche da noi la crisi ha toccato e quindi ci sono istanze particolari che vengono poste ai cittadini questo è il tema in sintesi di una di una grande problematicità che anche nel Trentino nonostante i vari sussidi che ci sono che sono importanti che tante volte facciamo difficoltà a riconoscere rispetto all'altro territorio del paese Italia ci sono però dobbiamo valorizzarli e trovare strade perché ci sia una maggiore equità anche nella distribuzione di risorse Bazzanella per lei invece oppure è una di queste le priorità che ha sentito oppure è qualcos'altro ancora allora naturalmente queste mi sembrano tutte delle priorità se dovessi dirlo con una sola parola direi prima di tutto il rispetto il rispetto verso i cittadini il rispetto verso coloro che la pensano magari in modo diverso il rispetto di tutti partendo dal rispetto io credo si possa declinare il tutto in vari modi rispetto per l'ambiente per il territorio come già stato detto per il sociale per le culture diverse noi a Riva del Garda abbiamo cittadini che vengono da altri stati da altri paesi e con i quali però non abbiamo secondo secondo me non siamo riusciti a creare un rapporto di interrelazione che è molto al di là della semplice integrazione e questi sono rapporti che si costruiscono con percorsi ben definiti quindi rispetto la tutela verso la comunità nella sua interezza noi credo che in quanto cittadini in quanto consiglieri comunali ma anche cittadini semplicemente cittadini dovremmo essere ancora più custodi del nostro territorio da tutti i punti di vista partendo soprattutto dal rispetto ci vuole più rispetto no cantava tempo fa però insomma rimane come come tema rimane come tema è stata posta la questione direi comunque sociale c'è un problema di coesione sociale arriva Santorum secondo lei poi dopo arriveremo all'urbanistica lei è partito subito urbanistica ma poi dopo la ripeschiamo però c'è un problema di coesione sociale come sostiene Mosaner in parte nel senso non che però la posta come priorità possiamo dire che al momento non ci sono grossi problemi di di coesione sociale certo ci sono delle scelte che vengono dovrebbero essere ponderate in modo diverso secondo me proprio da dal sindaco Mosaner per due motivi prima perché non è stato solo sindaco di Riva per cinque anni ma dieci anni precedentemente è stato anche assessore all'urbanistica quindi tutte le scelte che sono nate negli ultimi quindici anni hanno in certo qual modo un suo imprinting ben personale c'è il discorso delle casitea sono state costruite tutta una serie di appartamenti tanti adesso non so la cifra esatta ma Zanella penso la sappia a memoria intorno ai 120 150 non lo so quindi tanti appartamenti è chiaro che se in quelle località per questione di regolamenti per questione di punteggi per varie questioni io non mi metto a dire più di questo si dovesse creare una concentrazione di un tipo di di cittadino di nazionalità che supera una certa percentuale secondo me e non lo dico io lo dicono tutti quanti i sociologi di quelli che si occupano di urbanistica potrebbe creare dei problemi di integrazione quindi a volte l'integrazione viene anche dalla programmazione che si fa a livello urbanistico cioè non si può sbagliare la programmazione urbanistica e poi fra vent'anni se ci sono problemi dire ah ma non è colpa mia qui c'è stata una precisa scelta di dire facciamo così abbiamo visto in Francia abbiamo visto le baglie abbiamo visto tanti esempi infatti in quei paesi questi errori non si fanno più in Olanda non si fanno più in Austria non si fanno più abbiamo qui anche Prada che architetto ce le può anche conformare ecco questo è coeso in questo momento ma le scelte urbanistiche degli ultimi anni mi preoccupano molto allora scelte da ritoccare Mosaner dal suo punto di vista ritoccare parecchio qualcosa che sta precostituendo delle baglie di Riva ah beh questa è una cosa che ho già sentito tante volte ma al contrario al contrario ne vado fiero nel senso che quando abbiamo fatto gli interventi Riva è l'unico comune del Trentino che ha assolto il patto con l'Itea con la provincia per le case popolari questo è fuori dubbio e le stiamo che costruendo qualcuno adesso dice che magari sono concentrate sono troppe cambiano anche le politiche ma insomma questo era questo era il il fare ma l'amministrazione ha posto abbiamo posto un tema rispetto alle liste e quindi abbiamo con convinzione con convinzione individuato le aree per l'edilizia economica popolare per le case per le case non solo per le cooperative anche edilizia una risposta alle esigenze di cittadini e in modo particolare coloro che non avevano la possibilità di arrivarci ma abbiamo introdotto anche delle possibilità per quelle che sono le cosiddette le fasce grigie che sono al di fuori della possibilità del ricopere per i coefficienti ICEF di poter i coefficienti ISE a livello nazionale i coefficienti 0,23 di poter avere la casità ma non ha la possibilità di affittare riva dei prezzi alti riva dei prezzi alti anche e quindi abbiamo convintamente individuato le aree per l'edilizia economica popolare ricordando che le prime due aree sono state quelle la prima l'uscita del centro storico perché è stato risanato con il rione e la seconda con il 2 giugno per quanto riguarda le nuove espansioni oppure per dare casa a chi ne aveva necessità il rione del 2 giugno è stato considerato per il resto uno degli esempi progettato da gentili tedeschi Gianni Calzaco uno degli esempi di integrazione ma a parte questo il problema c'è il problema deriva e c'è anche in Trentino perché negli ultimi 5 anni anche qua la crisi ha toccato non è che qua non abbia toccato il problema di coesione sociale è che c'è un problema con sono sempre più quelle persone che vanno e che chiedono che non arrivano a pagare l'affitto alla fine del mese e quello devo dire da sindaco da sindaco incontro più queste persone che altre persone in questo momento queste sono le esigenze chi non riesce a fare la spesa chi non riesce a pagare le bollette chi non riesce a pagare l'appartamento e sono ma vengono da lei c'è la fila? purtroppo vengono da me vanno in comunità di valle tornano c'è una esigenza che è importante non sottacendo che per fortuna non abbiamo situazioni come ha delineato assolutamente non abbiamo situazioni come ha delineato Santorum io di Bronx e di Banlie arriva per fortuna non ho mai sentito parlare per fortuna non le abbiamo c'è qualche fenomeno ma che c'è da tutte le parti di qualche piccolo problema e di ragazzi con qualche problema di vigilanza di qualche effetto di piccola micro criminalità ma assolutamente sotto controllo per fortuna ma insomma dipingere che ci possono essere mio baglio o cosa del genere arriva proprio siamo penso lontani anni luce invece Prada che ne pensa in questione della coesione sociale insieme questo collegamento anche di scelte urbanistiche esatto sono due cose molto collegate collegate anche con la questione crisi come aveva accennato Muzaner la crisi c'è è già arrivata e dobbiamo vedere non i fenomeni nel presente ma come tendenza avevo detto in un'altra occasione dobbiamo sempre fare delle analisi tendenziali non serve guardare i numeri attuali serve guardare cosa avevamo nel passato cosa abbiamo oggi e tracciare lì una curva e cercare di capire dove arriveremo è preoccupante sì perché ci sono le nuove povertà ci sono un sacco di nuove realtà è collegato con l'urbanistica appunto perché la città è il luogo di convivenza è il luogo di riconoscimento è il luogo che la gente si riconosce come comunità e la città è sempre più brutta sempre più cementificata io mi riconosco facilmente quando guardo una campagna ma non mi riconosco quando guardo una rotatoria una strada asfaltata c'è molto più difficoltà a integrare le persone una città brutta e che cresce in modo spropositato ma riva è brutta? Facciamo sempre il paragone con quello che era in passato facciamo la tendenza e quello che si sta producendo e in futuro non so se parliamo poi di turismo eccetera ci sono città turistiche nel mondo esempio ci sono decine che l'attività costruttoria l'attività frenetica di costruire in base a attività produttive turistiche ha distrutto l'attività turistica perché una città turistica ha i suoi attrattivi nel momento in cui perde questi attrattivi appunto per la propria attività è una contraddizione ma questo ripeto ci sono decini di esempi nel mondo e tendenzialmente stiamo camminando a questo una delle mie preoccupazioni è questa io ho scelto di vivere alla riva del Garda la conosco dall'82 la prima volta che sono stato qui mi sono innamorato sono trentino dentro perché sono nato dentro di una casa trentina per cui vedere assistere poi vivere lei poi è stato in Brasile no? un po' perché si sente anche pochino no? gli è rimasto qualcosina la pronuncia lo dico così si capisce subito perché insomma perché non lo sapesse sono andati in Brasile di una famiglia trentina allora questa tendenza a trasformare in peggio quello che è una delle meraviglie del mondo dico così che conosco un po' in giro per il mondo realtà simili e purtroppo ripeto conosco realtà simili che sono stati proprio devastati da 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 questa ansia di 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 creare nuovi edifici alberghi 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 siamo siamo impazziti tutti o siete tutti impazziti perché veramente noi stiamo distruggendo quello che abbiamo di più prezioso siete o siamo siete o siamo che bisogna distingere non lo so io sto cercando di mettermi fuori di questa di questa di questo gioco qua perché effettivamente non sono d'accordo con quasi tutto che vedo come indirizzo che stanno portando avanti come politica per la città e allora domanda che faccio a Bazzanella e poi passo anche agli altri cosa fare per rendere più bella Riva tenete presente che Riva chi l'amministra lo dico ovviamente a Mosana ma anche a voi visto che siete candidati sindaci ha la responsabilità non soltanto per quel che riguarda Riva ma per tutto il Trentino perché Riva è top per quel che riguarda l'attrattività soprattutto come centro come località innanzitutto quindi quando parlate dell'attrattività non pensate non dovete pensare soltanto a voi stessi in quel momento dovete pensare a tutto il Trentino ok allora che cosa fare per renderla più bella Riva Bazzanella ma io dico sempre lo ripeto che che Riva è un gioiello Riva è molto bella obiettivamente è in un posto meraviglioso ha una cornice intorno a sé intorno al lago che è altrettanto bella spesso ci capita di vedere non so io frequento Facebook e vedo un sacco di cittadini che mettono delle foto degli scorci di Riva che al mattino magari si svegliano fanno una passeggiata e mettono delle foto sono delle foto bellissime magari semplicemente fatte con un cellulare però è chiaro che se ci sono delle foto così belle evidentemente perché c'è un luogo così bello quindi Riva io la ritengo un gioiello e un quanto tale va impreziosito va conservato bene e impreziosito credo che le cose siano molte da fare e da fare negli anni e forse negli anni noi abbiamo fatto molte cose sbagliate e più di una volta siamo finiti sulle pagine dei giornali nazionali per come abbiamo maltrattato questo nostro territorio basti pensare la parte tra Riva e Arco dove abbiamo costruito di tutto e di più e lì c'era molto spazio verde forse si poteva comunque costruire io non sono quella che dice non bisogna costruire non bisogna mettere un mattone certo che si può costruire però magari con maggior criterio cercando di salvaguardare il più possibile delle zone che abbiamo bellissime a tal proposito mi viene in mente noi abbiamo una legge di iniziativa popolare da anni in provincia che non è applicata sul parco agricolo questa è una legge che ha raccolto ben 9000 firme di cittadini del Basso Sarca che non è una una sciocchezza sappiamo tutti quanta difficoltà c'è nel dobbiamo dire Basso Sarca o Alto Garda è una domanda che mi pongo da sempre io Alto Garda e Ledro per la verità bene si dovrebbe dire però è vero che ci si come dire a volte la si chiama persino io questo non lo uso quasi mai perché non mi piace molto però questa zona la si chiama la Busa ma semplicemente perché si riporta quello che in realtà è è un il termine poi è più breve giornalisticamente rende meglio da quel punto di stagliare si fa prima il titolo quindi insomma la chiamiamo in molti modi però insomma ci si capisce e sto dicendo che questo è una zona così bella che è veramente un dovere cercare di conservarla il più possibile e quando dico di impreziosire Riva del Garda non parlo solo dell'aspetto appunto delle costruzioni insomma adesso recentemente insomma si incomincia a vedere la costruzione nell'area ex Gentilini e veramente fa pensare fa pensare molto perché quello a cosa fa pensare quello infatti stavo dicendo non vorrei io spero che non sia così ma che non diventi uno di quei non luoghi che spesso si vedono in in parecchie città quei luoghi anonimi dove non come dire non c'è la partecipazione della vita della città quei luoghi a sé mentre per esempio noi abbiamo un centro storico che è altrettanto bello che andrebbe valorizzato e quello certamente non è un non luogo è un luogo che ha bisogno di essere valorizzato da tutti i punti di vista quello della ristrutturazione per esempio magari con forme nuove con possibilità di interventi diversi quello del dare animo al commercio del centro storico io non vorrei che per esempio il commercio del centro storico si svilisce possa svilirsi maggiormente quando sarà aperto quello che ahimè viene chiamato parco commerciale per la bellezza di riva tante cose si ho capito tantissime che rispondono anche alla parola rispetto che ha detto all'inizio se non sbaglio ecco mi concludo subito credo che non solo queste ma anche tutta la parte del sociale di cui parlavamo prima e avrei voluto aggiungere alcune cose ma magari le aggiungo dopo fanno parte di questo di questo valorizzare questo gioiello cioè il tutto si interseca ogni tematica che noi trattiamo qui si interseca non vi è ombra di dubbio all'architetto Prada oltre che il candidato sindaco chiedo per renderla più bella riva allora che cosa che cosa si deve fare che ricetta allora no innanzitutto io di quello poco che ho già sentito gli altri candidati mi fa molto piacere che avete letto il nostro programma e che tanti temi avete trovato come importanti e portano avanti come loro programma io mi fa molto piacere che se voi adottate la nostra metodologia siamo molto contenti appunto tranquilli che che questi temi siano sentiti come come sentiamo noi quindi lei adesso si ritira dalla competizione perché tanto anche gli altri hanno sordito il programma sono un cittadino comune ripeto sono il signor nessuno che arriva qua a servire se se voi portate avanti io sto a casa tranquillamente non sono qui per la carega non sono qui per lo stipendio non sono qui per il servizio se fate voi sono contento uguale io dubito che farete voi quello che pretendiamo fare noi comunque tornando alla questione lei ha chiesto cosa fa l'architetto l'architetto rispetta la volontà del comitente non posso creare una casa che non sia adatta a quello che vuole il cliente chi è il nostro cliente chi è il cliente dell'amministrazione pubblica è la popolazione la popolazione deve dire quello che vuole il progetto di tutto della città deve essere la voce dei cittadini ci sono parecchi strumenti per far sì che i cittadini comuni tutti e questo per una questione culturale noi abbiamo perso in Italia non è mai stata così forte la questione di partecipazione ma gli ultimi vent'anni abbiamo perso il poco che avevamo e in questo momento l'amministrazione pubblica e l'amministrazione pubblica del Movimento 5 Stelle lo fa in modo attivo forte richiamando i cittadini alla partecipazione alle assemblee alla consultazione alla consultazione online ai referendum a quorum zero che questo è la base fondante di tutto il cliente fra virgolette è la popolazione se vogliamo tornare più bella la città dobbiamo rispettare assolutamente i cittadini ritorno all'esempio di prima tantissime persone che incontro dicono ma come mai c'è quel centro commerciale c'è quel parcheggio io non sapevo nulla a un certo punto vedo lì delle grue e poi dopo qualche mese c'è lì un obrobrio e la gente deve sapere in anteprima tutto quello che deve succedere perché sono loro i comitenti loro che stanno pagando tutto questo allora lei sottoporrebbe in sostanza un referendum quorum zero cose di questo tipo scelte di carattere urbanistiche assolutamente principalmente le scelte urbanistiche di una certa rilevanza assolutamente scelte che però ovviamente lei fa adesso e che si vedranno le grue magari fra dieci anni il processo è diverso arrivo io con un progetto con progetti contradditori tant'è che per esempio per fare un esempio abbiamo un progetto del oggi ieri è uscito sui giornali il palacongress no palasport palasport arriva un progetto la comunità di vale il ptc che è il piano territoriale prevede una cosa simile a sant'andrea ossia c'è una contraddizione ci sono progetti mille progetti si fanno progetti i progetti costano costano soldi noi stiamo pagando progetti che poi alla fine qualcuno di questi o quasi tutti non verranno eseguiti perché ovviamente sono in contraddizione non possiamo fare due teatri uno ad arco e uno arriva due palacongress due palasport continuano a fare progetti in realtà la procedura di democrazia diretta è prima c'è tutto un processo che parte cosa facciamo dare un indirizzo anche politico alle scelte cosa faremo abbiamo un budget così la gente comincia a tornare a essere consapevole e partecipe dall'amministrazione l'amministrazione l'amministrazione pubblica non può essere isolato e fare scelte da solo quindi per tornare alla domanda per fare bella la città bisogna sottoporre assolutamente partire con un processo di prima di sviluppo delle idee dove vogliamo portare la città cosa vogliamo creare un indirizzo politico un piano politico per la città ossia cosa vogliamo fare a Riva del Garda a partire da lì dopo che sappiamo esattamente dalla popolazione cosa dove arrivare lì partono i progetti veri e propri allora Santorum per rendere più bella la città renderla città giardino ho letto che lei la vorrebbe cosa cosa si deve fare allora no dal mio punto di vista direi che basterebbe andare tornare indietro di qualche anno qualche anno di 60 70 anni diciamo quando andare a vedere quello che è stato fatto tornare indietro a tutti ci piacerebbe saremo più giovani saremo tutti più giovani anche la città sarebbe molto più giovane da quel punto di vista e vedere cosa hanno fatto gli architetti di quei tempi parlo di Maroni parlo dei von Hartung quando sono venuti qui dall'Astria hanno portato diciamo il wellness l'aromateropie la cultura terromina secoli fa però se si va a leggere quello che loro scrivevano nei loro trattati nei loro programmi vi renderete conto che basterebbe seguire quello che hanno detto allora niente di più niente di meno poi riportato chiaramente ai nostri tempi da questo punto di vista sicuramente volevo rispondere anche a Prada che sono convinto che i loro programmi sono certamente validi ma questo non vuol dire che loro portano la verità solamente loro in tasca e se voi digitate sul Trentino andate a vedere alcuni articoli scritto io nel 2004 si parlava già di minimetro si parlava già di recupero delle zone io nel 2008 ho partecipato alla fondazione del parco agricolo e sono penso ero l'unico albergatore che si è detto disponibile a partecipare a quegli incontri dove si poteva dove io mi mettevo in gioco anche come associazione di categoria nel dire già allora ci mettevo la faccia già allora anche se di nascosto ma ce la mettevo quindi adesso dire che la verità la portano solo loro mi sembra un po' eccessivo sono simpatici sono tutto ma un attimino di rispetto anche per quelli che negli anni hanno lavorato quando Beppe Grillo ancora faceva 3,2 America quindi piano discorso dei progetti per semplificare i costi anche della presentazione dei progetti praticamente la situazione europea degli architetti hanno fatto un esperimento proprio pochi mesi fa hanno indetto un appalto grosso cioè un appalto un concorso di molti milioni di euro però chiaramente all'inizio volevano avere tante idee cosa hanno fatto? hanno fatto il concorso hanno detto chi si presenta deve presentarti con un foglio A4 scritto a mano e presentare il suo progetto ci sono presentati penso in 200 con i progetti poi quel progetto che ha vinto verrà poi finanziato e portato avanti in associazione con altre strutture che poi hanno i finanziamenti hanno i soldi quindi hanno dato il modo di partecipare anche a giovani a gente appena laureati a nuovi architetti di portare le proprie idee a disposizione della comunità a costo zero praticamente questo potrebbe essere una cosa nuova che si potrebbe inaugurare magari anche qui da noi Mosaner qualcosa per rendere comunque più bella al di là che ovviamente lei dirà io ho fatto già il tanto voglio dire qualcosa ci può fare ancora per migliorare dal suo punto di vista assolutamente da fare c'è sempre si può sempre migliorare però non dimenticando un paio di cose perché se no pare che si stia vivendo in una in un qualche cosa che si ama ma cioè allora Riva è nella cultura storica della Mitele Europa è dentro lì ha parlato prima di Von Hartung e in altre cose nel 2011 questa città è stata definita da una delle più grandi agenzie tedesche una leggenda vivente cioè la nostra città per questo abbiamo ottenuto un premio dal ministro del turismo tedesco definendo la nostra città lo leggo in tedesco Leben der Legende cioè questo è ma anticamente sempre siamo visti come siamo visti così ma non siamo visti così da allora siamo sempre visti così perché se nel 2015 nel 2014 in un mese e mezzo le più grandi riviste internazionali una tedesca Bill Zeitung dall'altra parte L'Eran Tribune Huffington Post che lo conoscete praticamente tutti hanno fatto una cosa che praticamente ha qualcosa di straordinario ricordando che il nostro è il bacino del Garda il nostro brand è il lago di Garda ma Riva del Garda ha un nome a livello internazionale che è esplosivo quasi allora evidentemente se questo riconoscimento c'è a livello internazionale e la gente ci viene i numeri aumentano anche nel settore del turismo aumentano sono aumentati i momenti di difficoltà comunque sono aumentati evidentemente un riconoscimento internazionale c'è la gente non viene in un luogo che è o sento dire che abbia queste caratteristiche è evidente che quindi il metro del giudizio internazionale è un metro di giudizio che è rilevantissimo e che dà soddisfazione evidentemente a chi lo ha fatto il sindaco e chi magari si propone di farlo ma capendo ci si lamenta troppo invece la realtà è un'altra dice lei ma anche quella mancata coesione che dicevo prima cioè noi stiamo promuovendo la nostra città a livello internazionale avendo all'interno dove si può migliorare si può fare ma evidentemente i temi che noi abbiamo io l'ho commentato qualche sera fa cioè noi abbiamo alcuni cittadini che magari si lamentano per tre cubetti di porfido che sono fuori posto alla nostra città e quella che i tre cubetti li mette a posto a livello nazionale se qualcuno va a fare vacanza da qualche parte trova abbiamo un livello di manutenzione che è straordinario che è elevatissimo anche in termini di spesa ma questo livello non bisogna abbassarlo cose da fare ne abbiamo fatte tante abbiamo fatto riciclabile sul lungolago criticata moltissimo ma dopo usata da tutti dobbiamo investire molto in questo investire molto nella pedonalizzazione ancora maggiore della nostra città allora se ci arriva dopo quindi vediamo però non si parlava solo di cubetti di porfido abbiamo parlato di queste costruzioni come l'ex gentilini insomma che che non è i tre cubetti di porfido no? almeno da quello che ho sentito adesso sì va bene ma sapete il tema ognuno cerca proprio la campagna elettorale si punta su una cosa si marca su quella cosa lì sono cinque anni diciamo tre cubettoni dieci anni che si batte sempre su questa cosa è evidente che ognuno cerca di portare acqua al mulino e abbiamo detto tante cose anche noi nel programma che sono chiare che sono evidenti rispetto alle attenzioni alle modifiche delle attenzioni che negli ultimi anni ci sono state livelli e soglie di attenzioni che sono cambiati impressionantemente negli ultimi decenni e quindi nei decenni evidentemente queste soglie portano ad aumentare poi nel nostro territorio in modo particolare attenzioni ma evidentemente se questo riconoscimento c'è quindi una maggiore attenzione quando si dice per esempio ma lo sento dire spesso no? ci siamo partecipiamo eccetera ma non mi ricordo molto rispetto delle varie pianificazioni che nei decenni scorsi si sono susseguiti attenzione Trentino era considerato all'avanguardia si è parlato del piano urbanistico provinciale ha detto Kesel Samona eccetera piani urbanistici partecipati il primo piano urbanistico d'Italia cioè abbiamo siamo stati il faro in Italia della pianificazione ma anche nei percorsi del piano territoriale di comunità ma si può dire io ho avuto qualche opzione l'avete letta anche di critica ma anche lì si è fatto un percorso di un certo tipo va migliorato qualcuno dice è già stato fatto la scelta è già stata fatta no il PTC è in elaborazione si dovrà fare non è che è stato fatto si dovrà fare si dovrà fare dopo con sistemi anche innovativi di partecipazione e con sistemi che sono stati fatti quindi c'è però un bisogno quando parla di maggiore consapevolezza della cittadinanza e quindi di partecipazione c'è bisogno di migliorare questo aspetto della partecipazione o c'è anche un problema nel riuscire a far condividere le scelte dalla cittadinanza beh alcune cose vanno partecipate vanno scelte vanno condivise evidentemente però se domani mattina viene un cittadino che è qua così qualsiasi non faccio ma anche chi grida magari fa lo stesso non c'è problema che porta la sua casa l'ampliamento un cittadino così ho visto che fa lo stesso si puntava lì Matteotti non era quello che voleva dire no ecco parlo di Matteotti perché lo sa Pietro Matteotti va benissimo ma porta evidentemente la realizzazione di casa propria o l'ampliamento non è che si possa mettere a referendum l'ampliamento della casa o mettere cioè ci sono le cose che si fanno e che chiunque va a amministrare attenzione perché se no si rischia di passare per quelli che se la pratica va a qualche d'uno succede amministrare anche responsabilità e anche assumersi responsabilità domani mattina chiunque si siede lì comunque si trova ad amministrare una comunità se no in campagna elettorale si rischia di dire delle cose che dopo non si riescono assolutamente a mantenere ma assolutamente quindi a dire delle cose che si vogliono fare e che dopo non si possono fare per quello che riguarda il futuro evidentemente noi stiamo parlando del futuro stiamo parlando delle nuove impostazioni allora questo sì ha bisogno anche di un approccio diverso ma che per il resto degli strumenti urbanistici anche della provincia autonoma di Trento si stanno facendo dopodiché evidentemente qua siamo su un tavolo dove ci sono non è vero che chi scende chi scende o chi sale in campo non fa politica tutti quelli che scendono in campo poi fanno comunque politica da una parte o dall'altra la fanno nel momento in cui sono investiti la fanno la politica e nel momento in cui si fa la politica poi si assumono le decisioni se sei minoranza evidentemente in consiglio provinciale non si determinano determinate scelte noi amministratori però attuiamo anche non è che ci possiamo ritrarre dopo diciamo no noi non lo facciamo ricordo ricordo ma lo ricordo a Prada ma lo ricordo ma non perché non è una critica a Prada assolutamente non è che voglio il sindaco di Parma Pizzarotti criticato poi all'interno dei 5 Stelle per tutta la sua campagna elettorale ha detto non accenderò mai l'inceneritore non lo farò mai l'ha schiacciato l'ha acceso quindi l'assunzione di responsabilità poi ti porta a questo ho parlato di accensione ho parlato di accensione quindi ascoltate anche ogni tanto le parole che vengono dette accensione perché si sta facendo informatevi ogni tanto dai per piacere dai va bene ok allora ma se devo dialogare posso dialogare con tutti no no si può sempre dialogare perché qua siamo in una struttura dialogante noi però abbiamo previsto una serata di confronto tra i candidati sindaco quindi poi ovviamente se dal pubblico si levano le grida io le lascio uscire e poi vedremo di riuscire a confrontarci pedonalizzazione un'altra delle parole l'ha portata in campo Mosaner allora vediamo un secondo è vero che ha parlato parecchio però stavolta parto da lui per poi sentire gli altri cosa dicono pedonalizzazione che cosa significa per Mosaner allora beh una valorizzazione viale roveretto beh no allora è così che tutto sia concentrato va benissimo beh di pedonalizzazione non si può dire che non è stata fatta molta siamo un esempio incredibile di pedonalizzazione non so se lei viene a rovereto ma mi pare che a rovereto man mano che si pedonalizza una parte della città ci sono i commercianti che insorgono si incazzano col sindaco o con l'amministrazione noi quando pedonalizziamo ancora di più delle piazze invece ci sono i cittadini che sono contenti anche i commercianti che sono contenti è un effetto della città questa ma il programma la diversità tra rovereto e riva una delle varie diversità ci sono delle diversità evidentemente ma l'apprezzamento penso della gente e della popolazione su questo c'è e penso che sia un programma che deve assolutamente continuare nel dare parti della città sempre più importanti alla pedonalizzazione viale rovereto ma viale rovereto la chiudo anche in fretta cioè viale rovereto all'occhio di tutti evidentemente è un viale che attenzione a quello che dici che promette in campagna elettorale la chiudo anche in fretta ma hai promesso qualcuno gli dice che sono politico ma io se smetto domani mattina un lavoro ho sempre lavorato fino all'ultimo mandato questo mandato che sono andato in aspettativa ma a parte questo la pedonalizzazione non deve essere la pedonalizzazione in senso stretto su viale rovereto sarà difficilissima farla ma anche il centro storico di per sé ha degli ingressi su viale rovereto insistono migliaia alcune migliaia di posti auto di dotazione banalissima degli alberghi che per legge devono dotarsi dei posti auto e devono essere non è che degli chiudi quindi si potrà arrivare in un percorso che determini sulla nostra sull'asse di aria quando la circomandazione sarà completamente finita i camion potranno transitare che adesso non lo possono per non sbagliati motivi ma questo anello ci sarà si potrà ragionare su viale rovereto per una la creazione io l'ho definita di una ZTL cioè una zona traffico limitata in estensione dove chi abita i turisti che devono arrivare nell'albergo che devono alloggiare si possa creare una pedonalizzazione ricordiamoci che la fascia largo ha già una pista ciclabile completa e anche una pedonale completa e quindi viale rovereto potrà essere destinato in parte a una grande pedonalizzazione attenzione però perché quando poi si dicono queste cose si deve parlare con tutta la città e quindi bisogna affrontare il tema con i residenti che poi sono a Sant'Alessandro che dicono una determinata cosa i residenti che sono cioè per questo parlo di coesione perché i temi anche i piani della mobilità vanno studiati nell'insieme sapendo che ci sono cittadini che abitano in tutte le nostre in tutta la nostra comunità e quindi bisogna capirne le esigenze degli uni degli altri fare delle scelte che siano in funzione non di proprie magari aspettative o piaceri ma quelli che vanno a soddisfare le esigenze della città ma anche delle parti della città Bazzanella sulla pedonalizzazione allora andiamo avanti sì pedonalizzazione non solo perché come dicevo prima i temi si intersecano a parte che prima mi piacerebbe così vorrei anche dire che secondo me chi ha la presunzione di avere tutte le verità in tasca non va molto lontano in ogni settore della vita io credo che vicino al microfono per cortesia visto anche poi che dice ci tiene a quello che sta dicendo sì sì perché si sente è che appunto avere la presunzione di avere tutte le verità in tasca di essere l'unico portatore detentore di verità io credo che insomma sia un modo sbagliato di affrontare non solo la politica ma la vita in generale lo sta dicendo di lo sto dicendo perché prima mi veniva un sorriso no Bazzanella a chi era riferito lo stavo dicendo perché prima quando ho sentito che appunto qualcuno ha copiato altri programmi noi l'abbiamo presentato per primi il programma e quindi evidentemente dovrei dire che qualcuno ha copiato a noi no non è vero io credo che si toccano dei temi che sono temi molto sensibili e che tutti i cittadini più o meno di questi temi ne parlano anche noi per esempio come primo punto abbiamo la partecipazione ma semplicemente perché io come altri che sono presenti nella nostra lista siamo dei soci fondatori dell'associazione più partecipazione in Trentino quindi mi sembra ovvio che temi di questo tipo possano essere nel nostro programma al primo punto io credo credo che la pedonalizzazione e in realtà altri il sistema per esempio di mobilità nella nostra zona siano delle cose come dire dei temi appunto che si che si incrociano allora io ho sentito tante volte in consiglio comunale parlare tante volte insomma alcune volte sfiorare questo argomento di pedonalizzare Viale Roveretto l'ho sentito anche dalla voce del sindaco e io sono assolutamente d'accordo più si riesce a pedonalizzare la città meglio è noi abbiamo degli esempi non lontanissimi da noi di città dove è veramente molto uno ci va tranquillamente con i bambini con insomma in situazioni molto molto belle addirittura tra l'altro di solito questi sono esempi che abbiamo al nord ma invece no vedo che anche altre molte altre città del sud si organizzano in questo modo io faccio un esempio l'anno scorso ero a Pescara che è una città non particolarmente bella ma che ha fatto la scelta di pedonalizzare tutto il centro tutta una parte molto grossa di centro e devo dire che ha recuperato tantissimo allora io mi ricordo quando 30 anni fa forse adesso posso sbagliare di qualche anno quando si iniziò a pensare di pedonalizzare il centro storico anche in quel caso anche da noi i commercianti mi ricordo non erano assolutamente d'accordo e poi dopo invece si sono resi conto che pedonalizzare non vuol dire vendere meno anzi vuol dire vendere di più perché la gente ci va più lentamente non passa in macchina e quindi vede la vetrina può entrare ora mi chiedo però se non è una contraddizione parlare di poter pedonalizzare Viale Rovereto quando l'abbiamo detto un attimo fa si sta costruendo un centro commerciale ci sono se non vado errate due distributori di benzina e quindi a questo punto è un po' difficile pensare di pedonalizzare una zona perché se devo andarci a far benzina voglio dire tante sono comunque le difficoltà anche a fare scelte di questo tipo e questo non lo nego certo che sono scelte che vanno fatte passo la volta vanno fatte e dicevo anche la mobilità nella nostra zona è un altro degli aspetti che vanno assolutamente osservati e cambiati e fatto di tutto per cambiarli perché è vero che è difficile arrivare a Riva del Garda da Rovereto ma è altrettanto vero che è difficile anche muoversi all'interno della nostra zona Riva Arco molto spesso ci sono delle strade bloccate dal traffico allora anche qui io credo che si debba come dire ci si debba mettere intorno a un tavolo e pensare bene a come si vuole risolvere questo problema perché questo è un problema che va assolutamente risolto c'è una legge di iniziativa popolare abbiamo raccolto recentemente 4.000 firme la maggior parte delle firme sono state raccolte proprio qui in questa nostra zona e dice una legge o un disegno di legge scusi un disegno di legge di iniziativa popolare e che andrà in discussione adesso è alla sta iniziando il suo iter nella commissione preposta e è proprio come dire un disegno di legge su una mobilità sostenibile e intelligente perché questo si deve cercare teniamo conto che noi che nella nostra zona il 76 credo per cento di mobilità è privata contro un 24 pubblico ma perché così bassa la percentuale di mobilità pubblica perché e lo sappiamo tutti lo vediamo noi cittadini rivani ci sono non è ben organizzato il ben organizzata la mobilità pubblica basti pensare che spesso e l'abbiamo visto tutti ci sono dei gran autobus vuoti completamente vuoti che vanno tra riva e arco o all'interno di riva ecco questo non può accadere deve esserci un ripensamento da questo punto di vista allora possono essere degli autobus più piccoli con fermate diverse con più rotazione di orario con cadenza diverse ecco questo va assolutamente studiato perché è inutile mandare in giro tra l'altro con un costo enorme non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale perché l'autobus grande vuoto mi inquina mi blocca la strada quindi bisogna pensare a delle forme diverse per esempio la forma chiamata per esempio il tram treno una delle ipotesi che sono state messe sui tavoli è anche quella del tram treno e che potrebbe potrebbe perché è ovvio che va verificata la cosa ma esiste già in molte altre città e funziona benissimo ma potrebbe collegare perlomeno arco riva e in gran parte entrare anche nella città perché e di questo so alcune cose perché ho un tecnico in casa che studia questi argomenti e il la rotatoria il pezzo di rotatoria non deve essere enorme per una struttura di questo tipo quindi insomma bisogna ripensare e cercare di portare il più possibile la mobilità pubblica la mobilità privata sulla mobilità pubblica ma attenzione concludo subito sì anche perché la domanda è la sua pedonalizzazione siamo andati un po' oltre vabbè però attenzione che non vanno solo cambiati gli autobus o incentivati o che ne so magari pensato a pensare al biglietto gratis no va anche fatta parallelamente va portata avanti una una cultura diversa quindi è importante intervenire certo sul mezzo di trasporto ma parallelamente condividere con i cittadini queste scelte affinché queste scelte vengano effettivamente sfruttate e applicate non basta un biglietto gratis bisogna cambiare la situazione Santorum la pedonalizzazione allora andiamo avanti quanto come pedonalizzazione secondo me ci vorrebbe un discorso di buon senso in questo in questo caso cioè nel senso tutti vorremmo poter accedere in qualunque posto in breve tempo senza macchina senza inquinare sappiamo che però ci sono delle cose che non si possono totalmente realizzare quindi il buon senso mi dice che alcune cose sono fattive alcune cose bisogna forse ripensarle quindi non va bene diciamo magari la proposta diciamo più che ho visto nel piano territoriale che è la proposta di Mosanner così dove c'è un'eccessiva pedonalizzazione perché questo perché è chiaro che se noi allarghiamo e estendiamo la pedonalizzazione all'esterno delle strade che sono già state pedonalizzate diventa meno conveniente per chi poi viene a piedi per chi poi vuole venire vuole parcheggiare entrare nel centro storico accedere al centro storico tengo presente che il centro storico dovrebbe essere visto come un centro commerciale all'aperto cosa vuol dire il centro commerciale all'aperto avere la possibilità di usufruire di tutta una serie di servizi occasioni di acquisto come un centro commerciale reale la differenza tra il centro storico e un centro commerciale reale sta appunto nella vicinanza dei parcheggi cioè in un centro commerciale tu arrivi parcheggi sotto vai su fai la tua spesa e vai a casa cosa voglio dire questo se siamo corretti se siamo onesti dovremo dare questa possibilità anche ai negozianti del centro storico noi non possiamo allargare all'infinito il centro storico per poi togliere la possibilità alla gente in determinati periodi di andare è chiaro l'estate vai in bicicletta è caldo c'è un 30 gradi vai ti mangi un gelato volentieri non vi dico dove ma se volete mangiarvi un gelato può essere una buona occasione per anche per un acquisto nel centro storico già vai a fare la spesa però in biciclo in borse è già un po' più difficile ma il problema è l'inverno l'inverno non puoi pretendere che uno parcheggi a un chilometro e venga giù a piedi allora lì bisognerebbe magari capire se c'è la possibilità di fare modulare questa cosa dire benissimo noi in un periodo dell'anno quindi nel periodo estivo dove c'è il maggior afflusso le maggiori macchine le maggiori presenze turistiche limitiamo un po' questo accesso che verrà sostituito e poi con i mezzi insomma in bicicletta uno può accedere o qualcosa nel periodo invernale invece bisognerebbe dare spazio a tutte le possibilità che ci possono essere e qui qualsiasi occasione un tavolo di discussione potrebbe essere aperto anche subito domani su cercare delle soluzioni come potrebbe essere lasciare un accesso verso il centro storico nei periodi invernali che vanno da fino a ottobre fino ai primi di marzo possiamo dire così alleggerire anche il peso si potrebbe prevedere ad esempio un bollino per la macchina del primo della famiglia una macchina della prima macchina della famiglia un bollino verde che ti dia la possibilità per le prime due ore di non pagare il parcheggio allora in inverno la gente magari sarebbe invogliata a prendere la macchina e venire in centro storico a comprare perché dico questo? perché è chiaro che se tu apri un'attività ristorante ti do un ristorante e ti dico benissimo apri due ristoranti uno a fianco all'altro a uno ti do la possibilità di avere il plateatico e a uno ti dico no dal mio punto di vista è una concorrenza sveale ecco in questi ultimi anni si è creata una concorrenza sveale nei confronti delle piccole attività delle partite IVA dei piccoli imprenditori che tutti che tutti gli anni soffrono anche in certi periodi se capita come l'anno scorso che abbiamo avuto fortunatamente non arriva e qui dopo spiego perché ma in montagna in altri posti sono avuti cali anche del 30-40% è chiaro che lì noi dobbiamo pensare anche a queste persone anche a queste attività non possiamo solo pensare al centro commerciale che già risolve da solo questi problemi perché noi non abbiamo avuto il calo nel centro storico nelle presenze è molto semplice perché il Garda Trentino è fatto di outdoor è fatto di sport è fatto di attività all'aria aperta fatta di mountain bike di arrampicata di vela di surf non voglio qui fare l'elenco di tutto quanto quelle motivazioni sono motivazioni per il turista talmente forti che non esiste condizione meteo che le possa distogliere dal fatto di dire andiamo sul lago di Gardna se noi avessimo altre motivazioni di vacanza probabilmente soffreremo molto di più quindi da quel punto di vista noi siamo fortunati è chiaro che noi non possiamo però fortunati o già bravi? fortunati perché perché abbiamo l'ora perché abbiamo la ponale che avrebbe il bicio di stagio che ci ha salvato certi gioiellini però in realtà noi a livello di strutture strutture dedicate allo sport guardiamo i centri velici guardiamo tutto quello dedicato alla mountain bike guardiamo i regolamenti della montagna guardiamo il discorso dei sentieri guardiamo il discorso tutto quello che guarda lo sport non abbiamo fatto nulla perché? perché vengono lo stesso è una cosa che ho sempre osservato i più belli alberghi sono sempre nelle vallate più disperse ci sarà un motivo è perché devono attirare i clienti quindi si devono ingegnare devono fare il nostro pericolo è quello che noi smettiamo di ingegnarci per il futuro e lasceremo ai nostri giovani ai nostri figli un qualcosa che non sarà più attraente fra vent'anni è quello più grosso politico che noi potremo occorrere in questo momento allora dalla pedonalizzazione siamo andati anche molto oltre però io insomma a Prada chiedo comunque sulla questione pedonalizzazione poi dove vorrà portarmi vediamo come hanno fatto gli altri volevo fare solo prima tre precisazioni tre osservazioni rispetto ai programmi innanzitutto penso no no rispetto a quello che è stato detto velocemente sulla questione verità in tasca assolutamente nessuno ha detto che è la verità in tasca ho detto che siamo anche contenti che abbiamo i programmi in comune siccome noi abbiamo lanciato certi temi molto fortemente sono distintivi del nostro movimento prima non si sentivano e adesso quasi tutti hanno adottato questi temi qua tutto qui sono di nuovo sono contento che stiamo riuscendo a portare avanti le nostre idee sulla questione Pizzarotti e questo è importante Pizzarotti sì noi sappiamo che amministrare vuol dire gestire conflitti gestire interessi pubblico privato ci sono una serie di cose che un amministratore a volte si trova obbligato a fare sappiamo però che l'amministratore ha l'obbligo di rispettare e andare nella direzione del bene comune di quello che è l'interesse della popolazione di tutti Pizzarotti ha sì acceso l'inceneritore però ha messo in atto parallelamente un programma forte di raccolta differenziata di porta a porta finché l'inceneritore si è spento l'inceneritore non è acceso perché Pizzarotti lo ha acceso obbligatoriamente poi lo ha spento con la sua azione politica è questo che deve fare un'amministratore ok per la questione Santoro ha accenato la questione del parco agricolo e questo è un esempio il parco agricolo è un esempio chiaro di come funziona la democrazia diretta sono 9.000 firme che sono state raccolte purtroppo non abbiamo e qui è da capire la differenza fra noi e gli altri è stata una legge di iniziativa popolare con raccolta di 9.000 firme è stata approvata la legge all'unanimità in provincia i comuni hanno approvato questa legge e la legge è parcheggiata e non attuata da 7 anni per cui fare democrazia diretta vuol dire anche attuare anche azioni non solo approvare leggi ma azioni noi non bloccheremmo e non parcheggeremo leggi di iniziativa popolare anzi cercheremmo in ogni modo la voce popolare e questa è la differenza poche volte che la popolazione si è espressa che ha creato una legge di iniziativa popolare non è attuata noi faremo il contrario pedonalizzazione pedonalizzazione arriviamo pedonalizzazione è uno dei temi dell'urbanistica la città è un organismo è come un corpo pedonalizzazione è come parlare di un corpo parlando solo del pancreas pedonalizzazione va inserita in un contesto organico la città è un organismo e la pedonalizzazione deve essere prodotto appunto di una di una scelta progettuale collettiva e risultato di un piano urbanistico per cui ovviamente se dico qui via la riveletto abbiamo una vocazione di pedonalizzazione ci sono richieste di pedonalizzazione però abbiamo problemi anche di viabilità in un primo momento quello che mi viene in mente e poi è tutto anche da vedere è una pedonalizzazione con orari di possibilità di traffico in determinati orari è una parziale pedonalizzazione per cui è una situazione mista che è la prima idea che abbiamo noi per una situazione ma ripeto va inserita dentro di un'analisi globale della città mi piace perché comunque è un modo di è un modo di comunque proporre comunque anche qualcosa non solo attendere insomma il risultato del corpo e dell'organismo cioè anche vedere un attimo di come allenare l'organismo a essere in forma anche quello c'è da fare come amministrazione un pochino suggerire esercizi da fare per stare bene ecco a questo proposito visto che si apre un po' anche il modo di affrontare le cose andrei a un punto che è un punto dolente per riva la visione un po' futura dell'area ex cattò insomma che è una questione sulla quale come dire si interrogano solo i rivani ma anche tutti quelli che passano da riva guardando ora ovviamente è una cosa che va affrontata sicuramente probabilmente tutti assieme però non so c'è un'idea c'è un'idea anzi ci sono due idee qui abbiamo già la possibilità di un primo referendum che ci sono due idee l'area ex cattòi c'è il rischio c'è il rischio che di nuovo si facciano lì delle scelte che vanno a creare nuovi nuovi mostri o nuove costruzioni in una zona che ha anche lì una vocazione è un collegamento è il link fra il centro e tutta la zona della Mira Lago la Fascia Lago per cui anche lì è una vocazione di parco parco pubblico però ha una conformazione già diciamo che è una conformazione per il fatto di essere a quota meno 4 praticamente sono 4 o 5 metri sotto il livello della strada si può pensare a fare un parcheggio interrato con il parco sopra questo è facilmente tecnicamente non è una difficoltà non come la piazza lì di piazza Terme Romane che è qualcosa di come si dice brutto orribile ecco un parco verde con il parcheggio visto che a partire da quello che è già la conformazione praticamente c'è uno scavo già fatto si può mantenere il parcheggio guadagnando un parco a livello della strada la seconda idea appunto è un'alternativa a questa idea marzana di creare un centro benessere sulla Mila Lago si potrebbe fare detto centro benessere con la stessa caratteristica col parco sopra lo stesso punto io sottoporrei alla cittadinanza la scelta fra questi due però con parco benessere con il parco sopra dice è possibile al posto del parcheggio al posto del parcheggio questa è una possibilità e così avevo salvaguardato quello che è il nostro praticamente il nostro più bello parco polmone verde di tutta la fascia lago che è il parco Mila Lago Allora siamo arrivati all'area Scattoi fascia lago Bazzanella che ne dice sì ma anche noi pensiamo che sull'area Scattoi vada fatto un ragionamento per quanto è possibile farlo e anzi si doveva forse tentare di farlo prima pensiamo che un tavolo di lavoro provincia comune ma non solo debba risolvere questo problema pensiamo che l'area Scattoi debba essere acquistata in qualche modo magari coinvolgendo anche i cittadini per esempio si potrebbe trovare cercare di trovare una forma di azionariato popolare perché è stato fatto per molte altre situazioni in altre città e quindi si potrebbe valutare anche questa possibilità che possa dare la certezza ai cittadini che su quell'area non si costruisce se i cittadini scelgono questo che mi sembra abbastanza credo condiviso possa essere abbastanza condiviso se i cittadini possono avere questa garanzia possono forse attraverso nazionariato popolare partecipare anche con piccole quote all'acquisto dell'area questa è una delle nostre proposte lì noi vediamo area verde lì oggi è un pessimo biglietto da visita per Riva del Garda è ovvio che vedere arrivare e vedere quel fantasma distrutto e il resto insomma è veramente avvilente io credo che un cittadino che viene da fuori e vede a me l'hanno chiesto tanti amici miei che vengono da fuori e mi dicono ma come fate a tenere una cosa così ovviamente oggi è un brutto biglietto da visita lo si potrebbe però trasformare a mio avviso in un bellissimo biglietto da visita quel posto e però vorrei legarmi anche ad altri luoghi che dovrebbero ritornare alla città per esempio la galleria panda è un altro luogo che secondo me va restituito alla città la galleria panda lo sapete penso tutti è la galleria la prima galleria verso limone vecchia dismessa oggi è fino a qualche tempo fa in affitto per 46 euro al mese in affitto però metà galleria in verticale fino a qualche tempo fa c'era un cancello perché l'affittuario che è un albergatore a un certo momento ha scoperto che una parte di quella galleria è di sua proprietà e quindi con questa motivazione ha fatto mettere un cancello perché lui dice se ci sono se entra qualcuno e ci sono dei problemi io sono responsabile e quindi la blocco con un cancello ecco vero è che ha depositato le chiavi in comune credo ai vigili del fuoco altrettanto vero che parallelamente c'è la galleria dove passano le macchine oggi e se lì dovesse succedere un incidente o qualsiasi altra cosa insomma la vecchia galleria la galleria panda potrebbe essere un passaggio di salvataggio ma con un cancello insomma rischia di non fare di non avere neanche questo ruolo di passaggio di salvataggio vero è ripeto che ci sono le chiavi ma vai a cercare le chiavi porta e apri se per caso nell'altra galleria c'è un incendio insomma le cose si complicano ecco io ho sempre immaginato la restituzione di quel luogo alla città e credo che non si sia forse fatto abbastanza che si possa fare di più ma che quel luogo debba essere restituito alla città in futuro mi auguro che attraverso la galleria panda e le altre gallerie si possa pensare a una pista ciclabile che va a limone e oltre oggi mi accontenterei di rivederla restituita alla città come un piccolo museo per esempio come quello di Trento io ho sempre immaginato sulle pareti di quella galleria delle gigantografie che riportano cosa sono state le gallerie durante l'ultima guerra mondiale ecco potrebbe un intervento non costosissimo quello ovviamente delle gigantografie e come dire potrebbe essere anche dal punto di vista culturale turistico un'attrazione in più così come dicevo prima al telefono con una persona che mi chiedeva di questi luoghi il risistemare laponale insomma è evidente è ovvio a tutti è conosciuto in tutta Europa ma non solo non è possibile tenere così un luogo così bello in queste condizioni quindi i luoghi da restituire la città sono molti compresa l'area scattoi Santorum area scattoi e Miralago e Fascialago una precisazione prima su cosa? sull'area panda ah va bene no area panda sulla galleria quella scuola Miralago area cattoi così tanto è uguale non cambia niente facciamo area cattoi qui purtroppo si incatenano tutta una serie di di eventi non casuali che ci sono portati penso ormai per vent'anni si è partiti già con Molinari poi si è passati a Mosaner come assessora d'urbanistica poi appunto come sindaco non voglio neanche fare un discorso colpe adesso colpe di più colpe di meno chi ne ha avuto di più chi ne ha avuto di meno perché il governo è sempre stato di centro-sinistra quindi lo troviamo lì insomma eventualmente chi dovrebbe essere il un eventuale colpevole che poi colpevole nel senso politico non è che siamo qui a giudicare da quel punto di vista lì voglio anche precisare che quello che dico non è riferito al privato perché il privato ha il diritto una volta che ha avuto la concessione una volta che ha avuto la possibilità di costruire di fare i propri interessi e di portare avanti il progetto diverso è capire quello che è successo negli anni nel senso nel senso che quando è stata venduta l'area Cattoi aveva un prezzo che era penso intorno ai 2 milioni di euro insomma già allora qualcuno poteva intervenire e dire forse quell'area lì visto che c'è di fianco la Miralago visto che c'è di fianco il campo sportivo visto che c'è l'Agip visto che c'è il campo da tennis e tutta una serie di cose probabilmente si poteva già intervenire allora non è andata così è andata in mano al privato che giustamente ha fatto i suoi interessi li ha portati avanti li ha portati avanti fino ai giorni nostri e adesso c'è il problema la società è in liquidazione è in mano al liquidatore bisogna cavare dal buco almeno un incontro con il liquidatore per capire un attimino qual è veramente la posizione del liquidatore che in questo caso chiaramente il grosso diciamo del debito è con Cassa Centrale Trentina quindi l'interlocutore anche da quel punto di vista lì è la banca e capire se c'è la possibilità di aprire un tavolo di discussione i 30 milioni di euro che sono stati detti da Mosandri in un articolo sono commerciali nel caso la vendita che verrebbe fatta su quel territorio e tutti i costi che sono della proprietà e tutte quelle cose più o meno ha quel valore ma non è il valore che bisogna sbossare per comprare l'area c'è l'area ha un valore commerciale che nel resto negli ultimi 5 anni dovrebbe essere anche calato ha detto di l'Istat e di Euro Istat quindi voglio dire so che era stata trattata si parlava di 10-12 milioni di euro o quello che era quindi la cifra è molto più bassa è un problema lo stesso perché sono sempre tanti soldi non si sta parlando qui entra in gioco tutto il discorso di Miralago Palacongressi Palafiere perché dico questo? perché noi abbiamo noi piano io no non c'ero loro hanno fatto un accordo ancora penso fosse stato Molinari con Patrimonio Spa e tutto quanto per prendere in mano tutto il discorso della ristrutturazione di Palacongressi di Palafiere in quel giro di partita diciamo che è stata fatta si era concesso alla provincia di cedere alcune quote di queste proprietà per poi finanziare la ristrutturazione di queste aree noi abbiamo fatto tutto abbiamo dato le quote abbiamo concesso tutto quello che ci è stato chiesto dalla provincia noi noi loro giusto correggere in questo caso concedo la la correzione ecco qui giusto concedo era un buon di scherzare quindi ora noi siamo creditori nei confronti della provincia la provincia ci ha chiesto tutto quello che ci ha chiesto noi glielo abbiamo dato ma non abbiamo avuto nulla in cambio come non abbiamo avuto nulla negli ultimi 20 anni se sono 20 anni che qui arriva non si fa un'opera che sia un'opera si parla si chiacchiera parliamo del tunnel parliamo della mira lago parliamo dell'area cattò parliamo del palacongresso parliamo del palafiere l'unica cosa che abbiamo visto sono tanti bei progetti tante belle intenzioni di quello che si può fare ma in realtà non abbiamo visto niente io sono stufo di questa cosa qua l'ho scritto anche recentemente in vari articoli da oggi in poi io valuterò quello che mi dicono non in base ai progetti che mi fanno vedere sui giornali rendering e tutte quelle cose anche perché se dobbiamo vedere il rendering la turbina che abbiamo a fianco della cartera doveva essere tutta nascosta non si doveva vedere niente in realtà non è andata così quindi io mi fiderò solo di quello che vedo quando vedrò il cartello con scritto inizio lavori allora gli giudicherò quello che è stato fatto da quel punto di vista quindi discorso Miralago e discorso della Cattò io comincierei ad andare dalla provincia sarà lei in modo che inizi che arrivi questo cartello inizio lavori quindi dovrà saperlo prima non vederlo solo se fa la sindaca o no io farò il possibile per riuscire è chiaro che non è facile perché io non sono qui giustamente questa è una cosa che condivido con Mosaner che non è facile andare lì e poi risolvere queste questioni però secondo me è arrivato il momento di battere i pugni anche con la provincia cioè non si può solo perché la provincia è dello stesso partito è del stesso colore stare sempre dietro allineati stare zitti aspettare poi ci troviamo con un candidato eletto a Trento che fa gli affari di tutti tranne che i nostri affari perché? perché tutti stanno sempre dietro allineati basta noi siamo gardesani noi siamo dell'alto garda dobbiamo recuperare la nostra gardesanità dobbiamo recuperare la nostra cultura gardesana e questo è un po' anche perché altrimenti noi saremo sempre qui ad aspettare che da Trento venga giù qualcuno che ci faccia vedere il rendering e noi gli diciamo bello 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 e alla fine siamo sempre lì no? basta sono trent'anni anzi i tunnel sono di più sono trentotto anni settantasette la prima volta che è stato fatto certo ma aspetta aspetta ma l'area ex cattò è comunque qualcosa senza rendering così lei cosa le piacerebbe fare? l'area ex cattò è un parco che va integrato con la Miralago è il nostro biglietto da visita non abbiamo questo è il nostro futuro se vogliamo fare ancora turismo se no facciamo industria benissimo poi di industria ovviamente parliamo visto che anche ha citato una turbina però ne parliamo ovviamente e allora Galleria Panda mi concede a questa siccome io sono abituato a fare mi concede a questo piccolo coso fare mi ricorda fare il declinio praticamente sono andato a controllare un attimino a verificare queste cose nella Galleria Panda perché per me era una cosa sconosciuta non sapevo di cosa si trattava non so neanche qual era il problema e guardando nelle carte così spulciando hai visto che insomma vengo anche da una formazione tecnica mi sono accorto che nella proprietà in realtà la proprietà non è proprio completamente sulla strada arriva fino a un certo punto rimane un metro e quaranta pubblico quindi di fatto si potrebbe già passare adesso mi chiedo io perché il comune o la provincia chi è responsabile io non voglio dare la colpa a nessuno fino adesso ha sempre detto che non si può passare questa è una domanda che esige una risposta non a me ma ai 480 mila turisti che vanno sulla ponale tutti gli anni questo è vergognoso soprattutto i rivani allora Mosaner vedo che ha disteso una serie di documenti qui che in parte mi spaventano però immagino che sia un modo io vorrei ovviamente capisco che c'è un po' di complessità su questo tema però tra area ex cattoi appunto sia la situazione sia le intenzioni e visto che abbiamo posto la questione anche galleria panda allora intanto sfatiamo alcune cose cioè l'area cattoi non è mai stata pubblica in senso assoluto è sempre stata privata adesso è diventata privata è sempre stata privata c'era una faglianameria dopo c'è stata una faglianameria che è stata spostata e siccome sento dire è un'area cioè un'area vera basta costruire un'area vera è lontana ma io l'ho pubblicata in consiglio comunale più di una volta per la memoria per la memoria nel 1980 il 27 di febbraio il consiglio comunale approvò una cosa del genere questa è quella che è stata approvata in consiglio comunale un rendering questo no 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 questa è una questa è una convenzione di deliberazione con numero di delibera qua così c'era sopra una cosa tipo alberghi una serie di cose no no ma no nell'80 nell'80 ero da altre parti ero no ma no perché mi documento il piacere di documentarsi ogni tanto e allora nella documentazione c'è questa cosa qua ma non solo rispetto a quest'area qua c'è una sentenza alla quale la provincia non il comune di Riva ha aderito che ha non solo dimezzato stradimezzato i volumi ma a parte questa cosa qua in questo momento pervige un divieto permane un divieto di acquisto da parte delle amministrazioni locali in Italia e anche in Trentino di qualsiasi bene perché prima bisogna dire come sono le cose perché se no a me piace fare a me piace fare a me piace fare a me sarebbero tante cose ma questo è un tema sicuramente un tema perché quello era un costruito fino a sei anni fa lì c'erano sopra quattro edifici una fabbrica orrenda quando ho fatto un'ordinanza per la demolizione ma guardate che non c'è mica tanti cittadini che hanno detto è stata demolizione è scomparso non c'è più c'era una fabbrica una falegnameria ma a parte questa cosa qua è interessante la cosa è interessante la cosa nel senso che intanto vale perché vale 18 milioni di euro al libro contabile più le ipoteche è in liquidazione è altrettanto vero è altrettanto vero che lì dovrebbero sorgere perché questo è pianificato non è che ci sono dei mostri che devono creare è pianificato che lì dovrebbero crescere una parte di edifici via questo azionariato popolare un paio di anni fa proposi l'azionariato popolare potrebbe intervenire con un azionariato popolare aumentando che cosa l'azionariato popolare vuol dire che aumenti le tasse cioè tutti i cittadini partecipano a un controvalore mettono un qualche cosa l'azionariato popolare è definito dalla legge non è che ci si inventa la legge stabilisce come fai a fare queste cose ma insomma poi si può discutere si può contrattare ma quell'area lì in questo momento è edificabile si compra si va a comprare un'area che è edificabile il Brione è totalmente preservato era preservato sembra questa interlocuzione da questa parte mi interessa è bella mi piace l'interlocuzione nel senso no il Brione abbiamo fatto e ora i consigli comunali possono essere tacciati di tante cose ma su Brione abbiamo messo un vincolo questa amministrazione che potrebbe essere quella che non ha fatto niente negli ultimi trent'anni che è lo stesso che è la stessa colorazione politica posto un vincolo su Brione sulle aroncaglie di assoluta inedificabilità quando qualcosa poteva passare fuori l'abbiamo letteralmente stoppata è affascinante il tema è affascinante sapendo che e la provincia da una parte o il comune dall'altra possono agire solo tramite società solo tramite società quindi bisogna capire se la provincia ha un'intenzione mi piacerebbe che Santorum vada a battere otto pugni perché visto che non hanno fatto uno non hanno fatto due non hanno fatto tre se è vera questa cosa qua l'area cattolice la sogneremo che la provincia la acquisti va bene quindi bisogna fare bisogna trovare un qualche cosa è vero che è in liquidazione ma fino all'altro giorno non è che il privato abbia portato distanza in comune dicendo me la comperate mai perché in comune aveva portato qualche cosa per fare che è una cosa ben diversa non per fermare i declin ma per fare e siccome purtroppo le responsabilità ci sono è bellissimo ma dopo di che è un tema affascinante vediamo il liquidatore che c'è è stato nominato l'altro giorno liquidatore che ha chiesto un concordato preventivo e quindi mi insegnano che le banche non vogliono beni ma vogliono soldi e quindi bisogna essere coscienti dell'ipotesi che si sta facendo è molto affascinante è molto interessante ci sono molti nella stessa coalizione che mi sostiene che sta sostenendo e dice facciamo il possibile perché questo accada facciamo il possibile ma sappiamo che andiamo a comprare una reddificabile che ha un determinato valore questo è dopo si può ragionare complessivamente però solo due cose perché no perché è bello essere tirati per la sacca ma dall'altra parte però scusi per concludere su questa cosa allora è affascinante è affascinante nel senso io lo dico da beh mi permettete in questo me lo concede anche lei no? ecco e me lo permettete tutti quanti per chi viene da fuori come sottoscritto vede quest'area no no so che tutti li ho capiti perfettamente attraverso tutte sia attraverso il giornale con cui scriviamo queste cose sia però effettivamente oltre che il fascino c'è una forse probabilmente una sorta di vuoto dovere anche magari in qualche modo di intervenire prima o poi no cioè di pensarci magari attraverso magari la provincia con i pugni non lo so io dico eh l'ultimo anno è passato fino a un anno fa vedeva dentro un casino assolutamente è molto meglio qualcosa è andato giù l'abbiamo fatto è perché se no ogni tanto anche qualche riconoscimento di qualcosa che viene fatto ma a parte questa cosa qua è molto affascinante si lega molto e è un ragionamento che è abbastanza ampio che evidentemente questo è onoresissimo faccio tengo in considerazione valutazione dei beni e dei valori quell'area lì per se te la regalano 12 milioni forse tanto forse a 10 vuol dire tre anni del bilancio comunale di opere pubbliche quindi bisogna essere coscienti con la cittadinanza Prada nel momento in cui si fa una cosa del genere sappiate qual è il valore e tutti evidentemente devono partecipare tutti devono partecipare chi più chi meno chi rispetto alla propria capacità però sappiamo che andiamo a comprare un'area che è così classificata a parte questo però sono state dette altre cose perché se no io vengo sempre rimando delle cose che perché c'è parlato di galleria di centro commerciale a cielo aperto eccetera eccetera ma o qualcuno è sfuggito il progetto preliminare della ciclabile per raggiungere il limone l'ha presentato il comune di Riva o a qualcuno è sfuggito o il finanziamento al fondo ODI per fare il collegamento con il limone l'ha richiesto il comune di Riva o a qualcuno è sfuggito perché ho sentito una cosa ma i finanziamenti i sostentamenti per tenere la ponaria aperta fino adesso li ha dati solo il comune di Riva a qualcuno forse è sfuggito ma presumo che mi sembra che possano sfuggire troppe cose che per quanto riguarda il comune di Riva alcune cose sono state fatte alcune cose sono complesse sono lunghe è vero ha introdotto un tema che è interessante il secondo tema affascinante che è quello della rappresentanza politica del nostro territorio nelle istituzioni provinciali ma siccome le idee si lanciano scusa Santoro un centro commerciale a cielo aperto e si chiama iniziativa di quell'assessore urbanistica di inizio al commercio che l'ha lanciato nel 2007 e l'ha portato a compimento con tutti i commercianti del centro storico per dire il secondo del secondo chi era l'assessore urbanistica no commercio anche il caso come vero fa lo stesso ma la cosa è questa noi dobbiamo acquisire con consapevolezza ogni tanto la rivendicazione pur appartenendo agli stessi partiti ma voci non ne ho sentite sono stato l'unico che l'ha fatto ma il programma della mia coalizione lo ha sostenuto di chiedere con forza alle forze politiche tutte trasversalmente compresa la mia compresa quella della mia coalizione di una modifica della legge elettorale perché questo territorio sia rappresentato è troppi anni che non abbiamo una rappresentanza ma non per dire che siccome i consiglieri provinciali o regionali fanno lo stesso non hanno vincolo di mandato e quindi quello della Val di Fiemma o della Val di Non può interessarsi delle cose rivane tutti lo possono fare ma viva Dio fino adesso ne ho sentiti pochi troppe volte ho sentito pochi interessamenti verso la nostra zona e allora dobbiamo fare quello che è successo in tutte le altre regioni d'Italia con la modifica delle composizioni dei consiglieri regionali dove c'è stato un dimezzamento dei consiglieri le province territori provinciali sono stati considerati circoscrizioni elettorali assegnando a ciascun territorio un numero di consiglieri provinciali pari alla popolazione degli elettori dopo chi vince vince premio di maggioranza ma quel territorio avrà quel numero e quindi c'è una forte proposta perché ogni tanto far politica serve che questa città chiede evidentemente è la mia coalizione e io lo chiedo di farsi carico di una modifica della legge elettorale provinciale su base circoscrizionale non abbiamo definito circoscrizioni ne lanciamo 5-6 Trento fuori dopo si ripartisca il territorio dove tutti i territori ma non per andare a chiedere soldi Santoro non per andare a chiedere soldi ma perché questo territorio perché questo territorio abbia io voglio i miei soldi non voglio chiedere soldi noi la rappresentanza politica serve non per soldi ma ti dico dopo ma la rappresentanza politica serve per la dignità di questo territorio per essere rappresentati in quei consessi democratici e anche magari in giunta provinciale per dare rappresentatività a questo territorio con i numeri che ci spettano forse anche una mancanza di partecipazione al voto alle provinciali è derivato anche da questo da questo un po' lasciastare intanto non ne abbiamo già da due anni non ne abbiamo da cinque prima erano quelli ripescati della porta girevole intanto no ma quell'intanto no noi non abbiamo rappresentatività e la rappresentatività è importante non appunto per ma per esserci per portare le proprie idee per contribuire e anche per far valere la voce del territorio la rappresentatività a volte si fa anche ascoltando anche le minoranze anche le più piccole anche il semplice voto anche l'unico voto che c'è non portando avanti sempre solo le vostre idee assolutamente beh sì ma sai sì ho parlato ho parlato cioè ma infatti abbiamo anche i vostri consiglieri provinciali che non è che abbiano un grande interesse per il nostro territorio ma è farlo stesso ma sta parlando di Riva o di Arco? ah sta parlando di Arco in questo momento varianti varianti comune di Riva dal 2010 in poi non ne ha fatte non poteva bloccare nulla perché abbiamo detto che noi ne facevamo e non le abbiamo fatte e la stessa cosa lo diciamo per il futuro ai ai a Moriari era a Roma adesso c'è Fravezia a Roma c'è Fracaro a Roma ci sono rappresentanze parlamentari ne avete anche molti e ne avete quindi non è che ci siano problemi allora c'è anche Ottobre a Roma cioè ce n'è appunto un po' di rappresentanza ma a Roma forse quello che ho capito è che diceva Mosaner riguarda la provincia in questo momento se ho capito bene una rappresentanza in provincia io non scuso perché ho lasciato intervenire ho lasciato intervenire perché vedo che alzano le grida però però io avevo chiesto fin dall'inizio che fosse un confronto tra i candidati sindaco poi Mosaner risponde quindi va bene però io sono per questa per questa cosa qua poi avete il modo di esprimervi anche attraverso il voto su queste cose ma in questo momento ci sono i candidati sindaco che rappresentano le diverse coalizioni e in questo modo possono rappresentare ciascuno intervenendo la posizione della propria coalizione o della propria lista e vorrei andare anche a una questione che riguarda una grande fetta dei rivani in quanto a come si dice occupazione e a quello che è comunque una ricchezza importante perché abbiamo parlato di turismo abbiamo parlato di commercio però l'industria è comunque un motore per riva lo è stato lo rimane e come si fa a integrare ovviamente con quello che sono le situazioni attuali sia di crisi da una parte sia dall'altra di un turismo che chiede probabilmente sempre un minore impatto invece anche di quella che è la presenza di carattere industriale su una città di questo tipo e su questo punto chiedo a Bazzanella di partire poi sento Prada quindi Santorum e anzi questa volta invertiamo facciamo prima Mosaner e poi Santorum e poi andremo a un'ultimissima domanda finale ok? allora Bazzanella si mi conceda 30 secondi io concedo stasera tante cose però io vorrei che ci fosse una risposta alla domanda perché io concedo ma soltanto qualche secondo perché altrimenti non rimaniamo no perché buttiamo continuamente dentro qualcosa va bene per carità però andiamo alle risposte sicuramente però insomma ho parlato credo meno degli altri ho l'impressione forse no ma è lo stesso allora quello che volevo semplicemente aggiungere rispetto alla rappresentanza politica del nostro territorio io credo che la rappresentanza politica del nostro territorio è vero c'è poco a livello provinciale insomma poco ma anche forse e questo concedetemi di dirlo perché talvolta come dire le proposte sono malate dalla malattia del campanile per cui se c'è un consigliere di Riva non può essere quello di Arco se parliamo di variante 14 solo Arco è vero allora è il caso di fare un comune unico esatto allora per esempio nel nostro programma il nostro programma uno dei punti importanti del nostro programma è uno sguardo sovracomunale allora quando Arco e Riva riusciranno effettivamente a collaborare bene insieme io credo che possano Arco Riva Nago Torbole per l'amore del cielo parlo delle due città più grandi credo che in quel momento forse è possibile avere più forza nell'avere una rappresentanza quindi suggerisce un comune unico? io suggerisco di incominciare ad unire i cittadini e poi uniamo anche i palazzi e unire i cittadini significa anche confrontarsi allora mi conceda che su questa cosa della rappresentanza chiedo che cosa ne pensa Prada allora e poi dopo ritorniamo sulla questione industria Prada che ne pensa su questa questione della rappresentanza e del comune unico se del caso il comune unico è uno dei nostri progetti è nel nostro programma la fusione dei comuni però con l'eliminazione della comunità di Vale che è un ente che è frapposto fra provincia e comuni appunto facendo che la comunità di Vale in realtà ha svuotato di competenze i comuni e non è non ha è semplicemente un ente che si va a sovrapporre al comune è uno svuotamento di competenze è una una divisione troppo macchinosa non funziona così comunque non funziona non funziona non funziona è da eliminare e posso fare solo due attenzione però perché allora diventa ogni volta è rappresentanza politica su quella cosa lì se mi finisce su quello cosa dice anche secondo lei sarebbe da insistere ad avere una rappresentanza politica ben proporzionata dei territori in provincia oppure no come suggeriva Mosano sono d'accordo questo va bene allora passo a Santorum su questo punto brevemente anche se stava rispondendo diceva che era d'accordo su questa cosa della rappresentanza politica comune unico allora brevissimamente comune unico e dopo andiamo all'industria ok comune unico sicuramente d'accordo cioè l'unica cosa che secondo me è stata sbagliata sono i tempi cioè prima si doveva pensare a mettere insieme le idee le persone i comuni i servizi i cittadini e dopo eventualmente si poteva pensare di fare una comunità di valle ma poteva essere anche solamente il comune unico cioè il problema è che sono partiti prima col comune unico e siamo rimasti a metà del guadro non è né carne né pesce questo è un grosso problema che andrà risolto Mosano velocissimamente sul comune unico comune unico io ho scritto nel programma ci sono alcune parti che ho scritto evidentemente microfono che sono push ci sono alcune cose e noi col comune di Arco collaboriamo da anni con tante questioni abbiamo delle gestioni associate non sempre comunque sono state apprezzate nel consiglio comunale cioè la maggioranza le ha fatte qualcuno invece non le ha non le ha approvate e quindi noi insistiamo perché dopo si parla ma dopo gli atti conseguenti in consiglio evidentemente non ci sono quindi gestioni associate avanti la dimensione il taglio la revisione fatta dal consorzio di comuni recentemente è che il taglio dei comuni indicativamente ottimale per la provincia autonoma di Trento intorno ai 20.000 noi diciamo dobbiamo collaborare con i comuni in principio di solidarietà e di sussidiarietà per dimostrare i comuni che dovranno obbligatoriamente associare le funzioni quelli sotto i 5.000 di dare una buona capacità e dimostrare di collaborare realmente perché loro poi possano associare le loro funzioni con noi quindi assolutamente partire con aumentare i livelli di collaborazione e di gestioni associate evidentemente la comunità di Valle è molto trasformata perché dipenderà molto dai comuni siamo ospiti qui stasera ma no ma questo è lo scenario istituzionalmente l'elezione sarà in diretta saranno i consiglieri comunali che andranno a determinare gli organi non è più votazione diretta dalla parte siamo i consiglieri comunali saranno i consiglieri che andranno a determinare gli organi eleggendoli e quindi ci sarà una diretta responsabilità da parte delle amministrazioni comunali delle politiche delle comunità di Valle dopodiché il dibattito sul scioglimento o meno delle comunità forse ci sarà quando in comuni in Trentino saranno 30 attenzione bacini ottimali di gestione di servizi a livello nazionale ormai sono molto sopra anche il nostro ambito nelle regioni in Italia alcuni servizi si gestiscono come almeno per 100.000 persone dovremo arrivare ci arriveremo 5 comuni quindi quindi 5 comuni in Trentino saranno allora industria Bazzanella allora noi abbiamo ovviamente le nostre entrate maggiori probabilmente derivano dal dal turismo ma abbiamo anche un'industria che è presente su questo nostro territorio io credo anche che però si debba stare molto attenti perché la crisi italiana e non solo perché in realtà è una crisi mondiale ma insomma la crisi italiana di solito come dire in Trentino forse arriva un attimo dopo noi abbiamo visto anche altre situazioni in cui il Trentino bene o male regge bene la situazione è un po' quella periferia dove arriva forse è un po' più tardi la crisi ma forse riesce anche a recuperare e ripartire prima prima degli altri e in realtà però questa è una crisi molto grossa a livello mondiale quindi insomma bisogna porre molta attenzione quindi industria posti di lavoro cerchiamo di stare molto molto attenti tenerceli stretti controllare bene la situazione perché già negli anni scorsi l'altro anno l'anno scorso l'altro anno insomma ci sono state delle situazioni un po' a rischio parallelamente però credo che si debba anche pensare non solo di mantenere gli attuali posti di lavoro che benvengano e siano mantenuti ma si debba anche fare un passo più in là e cercare di uso il termine inventare ma un termine improprio ma comunque recuperare idee per nuovi posti di lavoro per situazioni diverse favorire piccole medie cooperative potrebbe essere pensare a una ristrutturazione del centro storico o alla copertura per esempio dei degli stabilimenti che abbiamo con i tetti veri insomma tutta una serie di cose diverse che potrebbero creare posto di lavoro applicare la famosa legge di cui abbiamo parlato prima del parco agricolo anche quella potrebbe essere un'iniziativa per creare ulteriori posti di lavoro abbiamo parlato di mobilità e anche lì potremmo cercare di trovare delle piccole nicchie di posti di lavoro quindi la blue economy la green economy sono ed è provato ovunque delle iniziative possono creare delle iniziative di lavoro quindi io penso che dal punto di vista dell'industria del lavoro della possibilità lavorativa nel nostro territorio sia assolutamente si faccia assolutamente di tutto per salvaguardarla ma al tempo stesso si cerchi anche qualcos'altro altra cosa laddove purtroppo esistono anche per problemi di disoccupazione situazioni difficili da parte di cittadini nostri io penso si debba assolutamente intervenire perché credo che quelle che vengono chiamate le nuove povertà esistono purtroppo anche da noi dicevo il Trentino forse è un'isola ancora abbastanza felice ma non sufficientemente e neppure Riva è un'isola sufficientemente felice e queste tra virgolette nuove povertà secondo me portano con sé un'estrema solitudine e cerco di spiegarmi quando una persona lavora per 30 anni a un posto di lavoro fisso ha un ruolo tra virgolette attivo nella società e poi improvvisamente si trova senza posto di lavoro senza la possibilità di mettere insieme il pranzo con la cena senza la possibilità di mandare il proprio figlio alla gita scolastica guardate che accadono queste cose senza la possibilità di pagare il riscaldamento io vi posso far conoscere persone che hanno queste grosse difficoltà ecco che allora una persona che si è vista sempre attiva sempre presente un lavoratore vive questa situazione di disoccupazione di disagio in modo secondo me molto molto forte e molto molto profondo ed esistono e questo non lo dico solo io ma lo dicono studi in tal senso delle situazioni di povertà ma anche di grande solitudine in queste situazioni quindi penso che anche qui sia assolutamente necessario pensare ad un welfare diverso in questo periodo c'è soprattutto Passerini che a livello provinciale parla di queste cose io lo seguo sui giornali con estremo interesse lui ed è una cosa che sostengo anch'io da sempre dice attenzione le forme di welfare diverse devono essere forme che danno dignità alla persona non solo l'aiuto economico non solo l'aiuto immediato ma che ritornino a dare dignità alla persona attraverso altre forme lavoro volontariato situazioni diverse questo è assolutamente fondamentale per riuscire ad avere un tessuto sociale che nonostante le difficoltà riesca a come dire a reggere questa situazione difficile per tutti quindi tornando sulla questione lavoro come dico ampliare lo sguardo a 360 gradi oltre a quello che già abbiamo bene allora Prada sulla questione industria e lavoro i due punti velocemente molto velocemente ecco vediamo perché poi ci sono persone che trovo e che dicono siete bravi avete un programma però non voto 5 stelle perché Grillo urla e siccome ho sentito i due candidati che urlavano qua io temo per loro secondo punto quando Mosana ha detto dei 12 milioni che sono tantissimi per l'acquisto dell'area ex-Cattoi mi è venuto in mente il risultato di un amministrazione 5 stelle in un comune Pomezia che parte da meno 8 milioni come deficit a 4 milioni in attivo in due anni in due anni con il bilancio che abbiamo qui a Riva che è già positivo compriamo due ex-Cattoi con l'amministrazione 5 stelle sulla questione industria sulla questione industria non è una questione di crisi è una questione di cambiamento di sistema economico l'industria è in crisi perché sta morendo come sistema economico come ciclo economico è un'era che finisce e che inizia un'altra se non siamo consapevoli di questo sbaglieremo assurdamente l'indirizzo da portare avanti le politiche in questo settore non sappiamo se sarà fra due anni o 10 o 15 o 20 ma questo cambiamento è già in atto nel mondo ci sono già attivati in modo diverso in Italia siamo in ritardo e lì si aprono ovviamente siccome è un momento di intercezione fra un modello e l'altro c'è una duplicità di azioni prima cosa dobbiamo mantenere quelli quell'industria e quel lavoro che abbiamo che sono già consolidati però parallelamente un forte e mirato lavoro investimenti nella nuova forma che sono le nuove start up la produzione locale di beni servizi l'industria alternativa la green economy la produzione tecnologica ci sono una serie di investimenti che non sono neanche di grossa entità che vanno a ridirezionare assolutamente il lavoro perché è inevitabile e questo è un cambiamento che nel mondo è già iniziato l'attività industriale rimanente di questo fine ciclo è quasi tutta spostata all'estero principalmente in Cina in Cina comincia già a dare segnali che è già in esaurimento e tanto loro hanno già capito hanno acquistato metà dell'Africa sposteranno questa ultima attività industriale nel mondo in Africa i prossimi anni sarà così e poi dovremo noi tutti produrre le nostre cose a chilometro zero localmente in modo tecnologico ma parallelamente dobbiamo ridurre quello che è il nostro standard dobbiamo anche investire non solo high tech ma anche low tech dobbiamo tornare a certe attività low tech in modo a cambiare completamente stili di vita possiamo finire con la visione che siamo consumatori possiamo tornare a essere cittadini quello che abbiamo abbandonato questo sistema ci ha tolto questo 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 attributo di cittadini e ci ha ci ha appiccicato l'attributo di consumatori noi possiamo tornare l'azione del Movimento 5 Stelle va in questa direzione per quello parliamo di cittadinanza perché abbiamo capito che c'è questa trasformazione vogliamo trasformare non portare il cambiamento ma adattarsi al cambiamento che sta arrivando e questo è il punto però fondamentale in questo momento salvaguardare tutti i posti di lavoro che ci sono oggi ma comunque investire in una città di riva investire in industria culturale produzione culturale produzione servizi qualificazione dell'offerta turistica e non aumento dell'offerta turistica perché questo va a ripercuotersi appunto nella questione urbanistica e di viabilità e di inquinamento e tutto quanto consumo di agricoltura dobbiamo riprendere qualità di vita stiamo perdendo qualità di vita investendo con la mentalità di un sistema che sta morendo noi siamo fuori tempo massimo noi siamo andando fuori tempo massimo anche noi tutti quanti stasera allora Mosaner sulla questione industria visto che è stata posta anche in questi giorni in modo importante la questione anche di cartella del garda con la vicenda Imis un po' che come dire spaventa tra vari altri indicatori magari l'azienda eccetera allora si è parlato certamente da parte di Prada del fatto che siamo verso un cambiamento epocale però insomma anche Prada diceva manteniamo intanto naturalmente come si fa si può riuscire a fare qualcosa come si difende c'è da difenderlo intanto nelle relazioni con la cartiera del garda io penso che l'amministrazione qua devo andare indietro ma anche il sindaco attuale ma penso ho sentito alcuni la difesa della cartiera la difesa di migliaia di posti di lavoro nel passato nel presente e io spero fortemente anche nel futuro la nostra economia è un'economia mista dove convivono industria pesante perché il cartiere del garda non solo quella del varone ma andando sul territorio di arco ci sono altre realtà che hanno centinaia di posti di lavoro e penso che questo territorio l'abbia ben salvaguardata è l'unico polo industriale reale del Trentino cioè c'è questa pare una grande contraddizione in realtà noi abbiamo il più grande polo industriale attivo in questo momento del Trentino dopo la chiusura della Whirlpool con i nomi che ho detto aggiungiamo la Dana aggiungiamo l'Aquafil che sono migliaia di posti di lavoro a 365 giorni pochissime ore di cassa integrazione negli ultimi 5 anni nonostante la crisi con livelli stipendiali che sono anche decorosi stipendi pieni e quindi forte difesa anche per gli investimenti che hanno fatto che sono investimenti per il miglioramento e dell'attività della vita dei lavoratori interni ma anche degli OPPC stessi ma anche perché bisogna dire che quando sento è stato colpa di mostri la Riva se ne parla tanti quello della centrale di cogenerazione della cartiera è uno di tanti mostri se la cartiera oggi c'è con tutti quei lavoratori è perché c'è stata quella cosa lì avrebbe chiuso per i costi energetici è evidente che le industrie vanno viste a tutto tondo e quindi il tema che è stato posto è la collaborazione che la provincia di Trento e il comune di Riva si fa dialogando spesso e volentieri con i gruppi industriali presenti sul territorio sono mano d'opera importantissima a fianco a tutta l'altra mano d'opera quindi quello che ho sentito dire sono abbastanza nei programmi perché poi quando si amministra si propongono le cose tante cose sono anche in comune non è che non siano fuori dal comune cioè processi filieri di start up in provincia siamo all'avanguardia con tutte quelle che vengono proposte fatte che vengono vinte in termini di start up ne abbiamo premiate a decine siamo all'avanguardia sulla banda larga siamo una delle province che sta parla dell'ultimo miglio si sta avvicinando a passi a passi velocissimi e si sta ragionando anche sulla software libero è una delle poche province in Italia che ha fatto una legge esattamente su questa cosa qua non ce ne sono da altre parti cioè queste cose si dicono e poi qua anche in parte vengono fatte quindi bisogna cogliere anche queste opportunità che ci sono è il primo è la prima tema caro i 5 stelle la prima provincia d'Italia ma l'unica che ha attivato il primo reddito di attivazione non esiste da nessun'altra parte il cosiddetto progettone esiste solo in provincia di Trento non esiste da nessuno non esiste nemmeno in provincia torna di Bolzano esiste solo qua quindi iniziative volte andare incontro alla mano d'opera a quella svantaggiata a dare di percorsi qua ci sono e sono migliaia i lavoratori che seguono questi percorsi che hanno questi percorsi che hanno queste risposte solo il comune di Riva ha percentuali per per lavoro perché sono sull'azione 19 sulla 18 interventi sul progettivo e altro che coinvolge circa 100 unità certo metà sono a metà tempo sono a part time ma è una risposta ma sono circa 100 le unità che lavorano e messe in campo il comune di Riva assieme alla provincia di Trento quindi azioni ce ne sono molte e quindi si può lavorare ma abbiamo anche tantissime opportunità che ci sono e ogni tanto sento dire dobbiamo proporre questo ci sono già vanno colte vanno colte del reddito di attivazione non si sanno abbastanza bene non si sanno abbastanza bene perché c'è già un substrato di diciamo di sistemi che in provincia di Trento sono stati messi in campo e che ogni tanto non vengono percepiti pochi giorni un mese fa circa a Rovereto hanno premiato le 30 migliori start up del Trentino ma si dice dobbiamo attivare di ce ne sono ogni anno ne vengono messe in campo a decine a decine a decine a centinaia si può parlare e quindi ce ne sono già evidentemente questo territorio può collegare un qualche cosa che è legato anche alla formazione ad esempio la formazione del settore alberghiero abbiamo mano d'opera tanta mano d'opera abbiamo tanti ragazzi nel nostro territorio che seguono altri percorsi ed è un canale di lavoro importantissimo trasversale perché ci si fossilizza magari che sia un dipendente solo un cameriere dell'albergo lavoro dignitosissimo ma ci sono anche i direttori ci sono i maestri ci sono i cuochi ma c'è la commercializzazione è un mondo incredibile dove noi abbiamo arretrato adesso i recuperi della formazione professionale in termini turistico sta aumentando abbiamo per esempio nel nostro territorio un'eccellenza ma va continuamente perseguita e quello è un settore che evidentemente sul quale bisogna investire per esempio quello della formazione in modo particolare in una delle grandi capacità che è la provincia di Torname di Trento è quella di vendere un prodotto che è turismo Santorum allora sulla questione industria sta prendendo troppi appunti abbiamo pochissimo tempo no ma brevissimo ovviamente essendo praticamente la penultima domanda all'ultima domanda vi faccio una richiesta di dare una risposta proprio short ma del tipo una parola quindi preparatevi a una parola soltanto industria è vero è vero che abbiamo diciamo le principali aziende trantine sono qui in Busa da noi vorrei solamente far presente alcune cose che sono state dette dai proprietari dagli amministratori delegati di Aquafil di Fedrigoni Cartiera abbiamo visto il problema appunto della tassa Fedrigoni due anni fa per dissapori con la provincia ha spostato il proprio domicilio fiscale via dal Trantino perdendo 22 milioni di euro di tasse all'anno tanto per dire quanto sono stati ascoltati dalla provincia Aquafil Bonazza 20 giorni fa 20 giorni fa non stiamo parlando ha fatto un articolo sul giornale come vicepresidente di Confindustria dicendo che se si continua così se non c'è colloquio con la provincia se non si trova e questo non è non sto parlando di Musaner proprio di sistema di Trantino se si continua così in tre anni non saprà più come portare avanti la sua attività do un altro dato siccome siamo talmente all'avanguardia nei 10 anni il Trantino è al penultimo posto come crescita di PIL tanto per dire quanto siamo all'avanguardia i premi che vengono dati alle start up sono dei gettoni presenza più che start up perché sappiamo benissimo come funzionano i cittadini penso abbiano capito che quando si va benissimo le vere start up sono quelle che si mettono in gioco sono quelle che si mettono sul mercato che sopravvivono se noi andiamo a vedere di queste società alla fine quante sopravvivono è quello il dato che noi dobbiamo prendere e il dato che noi abbiamo è la metà della media mondiale quindi questo è il dato comuni sono andato a vedermi il sito del ministero dell'economia dove si possono vedere tutti i bilanci del comune e tutte quelle cose e anche lì si vede che il livello di tassazione del comune di Arco di Riva tra i comuni tra i 5 e i 30 mila abitanti è ai primi posti in Trantino anzi più che primo posti è primo diciamo con quel dato lì anche lì bisogna capire sto dando colpe magari sono stati usati per fare progetti per portare avanti altre cose però è chiaro che in questo momento qualsiasi tassazione che vada oltre quello che è già il tax rate siamo già al 70% quasi ormai di tasse totale sulle imprese e sull'industria su quelle cose lì bisognerebbe fare un ragionamento bisognerebbe capire come andare a recuperare risorse da dedicare a tutti questi problemi che ci sono sul territorio allora bisognerebbe anche capire se tutte queste partecipate che ci sono se c'è la possibilità di mettere insieme AMSA con la Lido se c'è la possibilità di chiudere quella dei parcheggi se si può capire anche se c'è un discorso di mettere tutto in comune queste cose per recuperare risorse non sto facendo nessun discorso di contro secondo me bisogna recuperare tutto quello che sono spese improduttive da mettere a disposizione per alleggerire la pressione che c'è in questo momento il problema dell'industria è un problema più di ascolto secondo me a volte si sentono da quello che emerge dagli articoli che sono stati pubblicati è come se non ci fosse ascolto su certi temi adesso io non so chiaramente lo sapranno gli amministratori di queste industrie io leggo quello che scrivono sui giornali questi sono gli articoli che sono usciti digitalizzazione qui c'è un problema appunto dell'ultimo miglio da cui da noi arriva lì bisognerebbe capire se è possibile appunto grazie al comune grazie all'intervento del comune se nel momento che vengono ristrutturate le case c'è il programma Mosano della banda larga si potesse fare si potesse accedere perché noi gli adorsiani li abbiamo la digitalizzazione c'è non è che non ci sono passano le dossare c'è collegato il palacongresce il problema sono i piccoli allora cosa vuol dire se noi vogliamo far crescere anche i piccoli se vogliamo far crescere anche le piccole attività dobbiamo dargli la possibilità di avere il frecciarosso anche loro non solamente il palacongressi andolo ricordo che ha un progetto che si chiama Minet mi sembra che ha previsto appunto grazie ad un accordo con il comune e con le piccole imprese e con gli albergatori e tutto mi sembra con una spesa di 2000 euro di portare direttamente la fibrodica non sul doppino ma direttamente digitale direttamente nella casa quindi cosa bisogna fare bisogna lavorare su questo è una delle cose da percorrere ad esempio anche le cartiere ci sono tre cartiere qua è possibile che in tutti questi anni non ci sia stata un'opportunità un modo di creare una specie di collaborazione per capire se la carta ha ancora un futuro un futuro intendo anche a livello di progettazione di studio parlavamo di start up ci potrebbero essere anche delle start up nel campo della carta sappiamo che si fa nel campo della moda si fa nel campo del design si fa nel campo delle macchine vengono fatti gli interni della macchina ormai con la carta e riciclabili quindi probabilmente ci sono dei percorsi da seguire ecco qui probabilmente comuni e provincia potrebbero avviare un discorso visto che abbiamo tre cartiere sul territorio non solo una c'è il Varone c'è Fedegoni ad Arco e c'è il cartiere del Garda quindi con delle start up vere dice lei quale credere ma non si tratta di una start up perché in realtà sono le tre industrie che già ci sono che magari colloquando insieme potrebbero dare vita a un progetto che in futuro potrebbe portare delle iniziative nuove che potrebbero aprire nuovi mercati allora è tardi è tardissimo e io vi chiedo soltanto di e vi faccio pensare un secondo di trovare una parola una che dia un po' il senso quello che può essere il vostro impegno per il futuro per Riva una parola una parola che sia la parola d'ordine in sostanza e questa volta non comincio da Bazzanella comincio da Prada non so se è pronto se no se vuole aspettiamo ancora qualche secondo ce l'ha la parola una parola una parola una parola una parola che sia una specie di parola d'ordine qual è la parola sono le due che hanno un senso io ho provato volevo vedere se eravate in grado insomma di farcela con una parola se no ci sono le due è riduzione dei costi riduzione dei costi va bene Bazzanella ho iniziato con una parola concludo con la stessa parola rispetto Santorum Gardo Sanità Mosaner è un'amministrazione vicina ai suoi cittadini di più di una parola va bene allora io ringrazio i candidati sindaco mi scuso con la platea se non li ho fatti dialogare sul serio vi ho accolti tutti quanti però ci tenevo che fosse un confronto tra i candidati sindaco perché altrimenti dobbiamo aprire il dibattito a tutti con interventi magari anche più lunghi ancora li ringrazio per la disponibilità per essere stati con noi e auguro a tutti loro in bocca al lupo anche se forse non si dovrebbe augurarlo a tutti grazie e giù dal lupo